un posto no this is not good for me aspetta non abbia niente no fra, ma si è via da sola ma boh chissene la connevviti dopo poco tanto fra porto il mio 3 ma come non partiamo subito dai vabbè la connevviti dopo ahah sono primo finalmente una gara noi due ah già ma te ne hai tu a destra io sto a sinistra bravo mi vuole venire no mi vuole prendere la scia sto infame mi ha preso la scia no quanti gli ho fatto così hai smandato pure il tuo testo di caldo no ma qua si smabba un cagino ma basta si minchia ti butto fuori dalla gara ma perchè ciao papà buonanotte buonanotte signore mannaggia la domanda ma l'aiuto in coda che cos'è l'aiuto in coda oh non mi ricordo l'aiuto in coda io lo so sei così indietro ma ma chiudi la porta per piacere però come mai sei così indietro mi è spinto mi è spinto minchia appena sbagli guarda rile se sbaglio e tanto sbagli tanto sbagli ma perchè la mia auto è blu io l'ho presa verde io ce n'era l'ho messa a casa io l'ho messa verde me l'ho presa blu ma no come mi sta tirto un giro fatto mamma potresti chiudere la porta per piacere io lo guarda ahahah fra ti sto recuperando eh più o mai l'hai più distante eh non so perchè ho svoltato testa ahahahahah guardalo mi disegni questo maledetto ahahah ma questo va riusci vattene via no no che questo mi sembra perché io vado ne ha fatto qui guardati vedo come come gli butti no ahahahahah vedo come gli butti fuori vabbè 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 quella quella che quella sia allora io mi so che questa auto me la compi su gt online è fighissimo no fra c'ha poco freno fidati e se la modifichi no mi sembra che sia una delle auto si però costa anche un bot si come sai e che l'ha vista forse ahhh non c'è non c'è dove non hai memoria ti sto reggendo prima io piglio l'istante l'hai dici tu dai 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 Cosa è finito? Ci sono tre giri, non due È vero Ma uno Manca poco Ma perché non chiudono la porta? Hai detto che arriva anche Luca Gaido Ah, l'ha detto nella live? Sì Ah, ok Meglio, meglio Se siamo più siamo, meglio è In due è brucio Luca, tu che sei bravo Come faccio a guardarmi indietro? Eh, da te Ciao Luzzo Ciao, io Lopo, come stai? Te lo faccio sempre Vai, 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 ti sto aggiungendo Ti sto aggiungendo Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, Luzzo Luzzo Tutti stifano Scommetto che c'è la chat piena Che sta dicendo Vai, Luzzo Vai, Luzzo Sì, sì Ha detto che dobbiamo mandagli il video Te lo mando dopo, Fra Aspetta Wait Ma come? Niente, vai, Luzzo Vai, mandaglielo Ora, tranquillo Non ti sottrerò Sì, sì Vai, 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 Luzzo Vai, Luzzo Ti prego Un piccolo sforzo Un piccolo sforzo Manca pochissimo Prendi a chiungerla Vai, Luzzo Luzzo Il peso uscì Il peso uscì Guarda, fai Sifo No Hahahaha Guarda, come dice Cordo Hahahaha Hahahaha Ed cazzo Guarda, guarda Guarda, guarda Guarda che vince Luzzo vince Vince Oh men원 Ancora di te guardo quello Ah invece si Eh vabbè Pazienza Mi interessa aver preso i soldi Oh my god Oh my god Oh my god E' arrivato primo A me mi ha dato 6.264 4.800 Minchia fra Eh si lo cado 2 secondi Va 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 DJ Ho ho Io Ho 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 visto io te l'ho detto che ti avevi aggiunto Sì fra 2 secondi Ho evitato anche Luca Mi sa che dobbiamo qui te legare No Capizzo Vabbè Chi se ne è Se c'è Luca Questo è altro Va bene Esci fra Ne avvio un altro Tra 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 Io vado Tra Non vogliamo gli 08 Ma vado la live a tolazzi Tutti anni Non è 08 Ma vado la disattiva Forse 2011 Sempre pensato fosse 2011 Tozzi Ma è nella live che ascolta tutto come sempre Mi chiedi immagini Madonna Ma è sempre stato così Adesso se dici una Anno sta giocando a fifa E magari sta ascolta Eh suo cugino Ah Oh cara Però almeno se Sono ancora nella sezione Sì 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 Praticamente L'ho solo buttato lì Allora No ma ogni tanto capita che manda in un'altra sessione Allora Eccolo qua Spedisci invita la partita Ti ho invitato Lozzo Eh Lozzo sì Luca Come ti permetti Il mio nome non può essere rovinato su di lui Ti voglio bene Luca Luca però ti devo unire anche al party Luca invita dal party tu Ok Dov'è Luca Luca Gaido 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 Eccolo qua Sta giocando la storia Luca ma che storia è storia Dovevi venire nell'online Aspetta che chiudo la porta All my friends In this like a slow Prima ho fatto la cosa più difficile Ciao luco Ciao raga Come stai? Ma scuami vieni in live Cioè in live si scuami vieni Online che è storia E se mi buttano qua? Uiii Eccetto che viene online Come vuole partecipare al legare scusa Che poi deve andare online però per forza Se vuole partecipare Già Sta arrivando eh E' tranquillo E' tranquillo Da qui non ci muoviamo Forse Se io non avrò da fare la pipì Posso giocare Posso giocare son 08 No non puoi giocare mi spiace Chi è che l'ha scritto? Anna Labbadia Ciao fra Abbiamo detto che non vogliamo gli 08 Si chiama così Sì 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 Io no Penso sia così Bimbo Andate ad ascoltare autoblue No fra basta Ma sto scherzando Ognuno ascolta quello che vuole Non insultare i miei follower Cioè Quelli che ti dico io puoi insultarli Ma sarà entrato uno a caso A dire sono 08 Ma perché l'ho messa Dai da qualche parte Che cazzo Magari non è Magari non è anche iscritto Che ne sai Eh perciò Eccanzialmente Che ti hai? 100 qualcosa tipo Quanti? 100 qualcosa Ma di cosa? Ora Iscritti Ho raggiunto i 100 iscritti In un giorno di cui mi sono fatto interrogare In dai Hai raggiunto i 100 iscritti I giorni del mio compleanno E' quando mi sono fatto interrogare in live Luca ma quanto ci metti ad entrare? Eh? Quanto ci metti ad entrare? Ragazzi diventai una scena a caso Non per forza nella nostra Ti mando l'invito a YOLO Non è vero di entrare nella nostra Frassi è una gara privata a testa di casa Ma cosa vuol dire? Basta che vai su i miei amici Quella che ci mette un botto Basta che vai su i miei amici Ma io sono da solo invece Mi butto mamma Io lo invito a me nella tua Ma non si dà la mia giù Ma sono da solo Ciao Della Ehm Con laurore ho davontato No 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 Quella aurora Lascia stare No e dimmi male scusa La cugina di Sharon Ah auto tutto tutto per l'uomo del nido aspetti stessi ma scusa entra nei miei parti non parla neanche franzo mollare è nata ammiratrice oltre ma ti pare ma lo calami e la mia sua moglie quando non voglio altro da 6 oi lo canale del mondo io sono stato online ma lo vedo qua lago io ce l'ho cerca amici ma luca io non voglio ammiratrice io voglio ammiratori non ammiratrice perchè gli ammiratori almeno giocano gta giocano gta io ti vedo che sia una storia luca amore a me no no luca andalo stesso l'invito io sono online auto blocchiamo ma da dove sono sonati tu io lo so sponati tu anche di regno da nulla e abdur consiglia il cobb il cobbab si che va con un po' di segnala io ho già fatto per un po' e dal punk club ci si è più andato ah no io vado solo da quello in fiducia dopo quello che ci ha cacciato fuori è fra ma non ha mai fatto i cazzoni non puoi entrare da uno a casa dire buonasera punk club c'è ovvio che si incazza ma scusa ho detto buonasera punk club e la sera lui è punk club cosa vuoi che dico buongiorno macchina non puoi entrare da una pista dalla persona adulta c'è una legge che lo dici che vieta di farlo no fra per la questione di rispetto scusami povera ma scusa un attimo ma secondo me questi quelli hanno e gli hanno già fatto uno scherzo questo qua io ero tutto allegro lui è pancra e la sera vuoi cosa vuoi che dico buongiorno barbino ho capito ma non mi inviti ti invitato scannato non mi è arrivato non ok le recita da io sono online ora finita e ora entro ma è stato un rai del compito l'invito vecchio di prima andiamo un attimo ho preso l'invito vecchio di prima vediamo se mi fa un'era poi tanto siamo andati poi no no non ti ho detto poi siamo passati dall'altra parte della strada e c'era lui davanti alla porta che osservava le persone malissime chi? quel punk lì magari ho visto io sì o no si è messo davanti alla porta e fissava le persone malissimo ma che c'è vero? vabbè tanto si va sempre dai mangleni di fiducia ma è perché sono spawnato in piaggia ciao l'ho tutta qui oh siamo nella stessa visto che intelligente che sono io ero stupido questo è l'invito online e fra ti vedo nella storia allora dai duke ma in cattivi ci va a me attività avvia attività ma io come salgo mo' sta allora ti aspetto Luca dov'essi andando io sto cercando un'uscita per sta spiaggia basta prendere basta prendere no no tranquillo eh ragazzi ci incontriamo a casa di Kish ma si ci vuole invitando a posto eccola no 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 e le manacrasso che arrivato subito dopo la tua pit c'è bene ok eccoci ok 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 se vogliono o no no è una gara stata scelta dalla roxa non vedrai di andare all'acqua park domani ma non c'è la prima cosa cosa che ci sono troppi ma è fra l'odesto sossessione per la sua commissione come uno di g7 e ammesso sento come non sbagliato scopo per te e finiremo domani neanche spettacolo molto alto è un'auto di un'opera vede vera ma come blu e mi dà il colore verde la mette rosa il mio conto un po' non mi fa cambiare veicolo e non puoi non puoi qualcuno e luca hai bisogno di una lingua araba tedesca no che c'è io l'ambio cazza io l'ambio tutto l'altro città ialloromania vai non può parlare let's go son po' hai messo a condizioni sì che ci sono ancora un'epa perché fatto non basta perché fatto primo continuiamo quello che mi ha fatto stile da con un giallo io ce l'avevo detto da prima ma luca come vai luca che hai fatto il partito con ma luca c'è un'auto diversa non ti lascerò per me la scia sparisci a me interessa vincere i soldi ste gare no a me a me interessa perchè luca c'ha una partiglia diversa dalla nostra perchè l'ha cambiato la livella forse no lo so ma ma a me sembra un'auto sinceramente e poi avrei cambiato anche il colore ma oddio no merda no luca mannaggia a te arunno no mi sono pure cazzo luca mannaggia a te mi hai fatto sbandare ma cosa mi hai fatto sbandare io non ho preso il checkpoint per colpa tu sono privo senza fare luca ahahah ma addirittura ma quali ci abbiamo da fare sette che gatto eh mi sta chiamando il marrono ma come ti sta chiamando il marrono ma come ti sta chiamando il marrono ma non è in cucina ma 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 non posso sono in live ma ma è uno youtuber ma ma sono in gara è uno youtuber 5 minuti arrivo deve capirlo 5 minuti 5 minuti ci vogliono per il tv giro ahahah 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 è comunque stranissimo sta smappata come del regalo c'è luca vacca gare io fu di buttati fu istadano non posso cercare il primo checkpoint dai no 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 non sono segni di compreso questo madonna chi ci ha fatto no 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 mamma mia 5 minuti e ho messo 5 minuti a finire il primo 1.45 è verità però che è no lo so sto scherzando dai 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 Luzzo guarda siete davanti a me però se mi impegno ce la posso fare come ho fatto prima con Yolo fra se sei ce l'aiuto in coda come? ce l'aiuto in coda ce la fai chi è che sta usando il freno a mano esattamente ma fra anche se non lo si qua appena giri e li metti subito infatti infatti ti sbanda no qualcuno ha usato il freno a mano ecco Gaido io l'ho andato ho sbandato Gaido gaikoti no io ho sentito proprio un freno a mano Gaido gaikoti era Gaido figlio ok io penso sia fatte la cagare t'avevi buttato poi in strada ha fatto sotto il continuo ha fatto sotto il muro ha 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 l'ho fatto per me il muro tutto lì ok ecco io l'ho colato caglione ora hai tutto tutto mi perde il muro ok che è pericoloso eh chi è pericoloso eh chi è pericoloso chi è pericoloso non avevi già fatto fuori si è proprio tu con la tua mia assistita del cavolo ok io l'ho son pericoloso l'ho poi ha detto Gaido vieni qui vieni qui aaaah ecco ti ecco ti sono niente di te levati no che sono caduto io no non posso cadere ok non sono caduto ok non sono caduto ok non sono caduto ok non sono caduto non sono caduto ma perchè st'auto non ha non ha le luci come fari boh vieni qua vieni qua trena di nuovo grazie no dai che scemo ha frenato che che pirla iolo cioè luca io lo pensavo che mi sarei andato non sto frenato ma ha fatto aaaah si però mi siete attaccati come due e adesso ok andatene sciò il gioco sciò 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 ma scusa un attimo com'è che tu stai da due più veloce e violento non ho capito scusa ma guarda quanto vengono migliori di quelli che scambola scatti ma intanto non sono io quello che ha preso un muro senza essere colpito ma perchè c'è c'è dietro il cia oh vai luca super ga vai gaido super iolo non sono andata di quella che ti ricordi del cia vai 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 come attenzione di voi non pensate a me grazie non pensate a me grande gaido non pensate a luce che dobbiamo puntare come tipo no io non punta nessuno io punta entrambi ah io non punta nessuno intanto che aiuto io non punta luce io punta entrambi no 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 vogliamo in prima persona ok io sento la persona no 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 è un suicidio aiuto luca ho smandato era la tua occasione era eh io mi sono capo capo no luca dietro di me luca dietro di me luca dietro di me luca dietro di me no dai dog gay dog gay dog ma luca tanto hai ancora tre giri per casa si mi dà il tempo l'ho avuto fuori sessione ma com'è no 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 scusa gai dog perché sei così veloce scusa godo ah no non è non godo invece non godo vai per il muro vai no no ci siamo vincitati entrambi no io ero adesso andando avanti tu sei rimasto indietro no no in realtà ci siamo girati tutte e due allo stesso eh sì ma tutto ciò io l'ho concentrato perchè ci vuole aggiungere una di quelle che ci ricorderemo per tutta vita luca accelera luca accelera l'aiuto in cosa non ti serve a niente a te non ho capito raga io sto prementando le due come andando luca accelera luca accelera luca accelera ho smandato ho smandato luca dietro di noi luca muoviti luca accelera vabbè non ho capito visto che non sei accelerare ci penso io addio ma non mi ha fatto smandare sto gay ciao io lo come fai dai mi ha fatto smandare all'ultimo ho colpito la parte dietro lo so mi hai fatto testacoda ma bo mi raggiungo mi raggiungo non voglio arrivare terzo mi raggiungo poi dopo di non testacoda li faccio c ma fai zitto hai avuto testacoda di culo e l'hai fatto mille volte non ci si è uscito neanche uno ma che c'è il culo nella macchina non ce l'ho ma non ho tranquillo quello con cui sei seduto quello sotto sotto il sedile dove sei seduto ma non ho mai fatto questa cosa colpito non sarei più in vita ma io penso sia io non sono pesati a viola ma fatto non ho fatto un coda testa 9 gaito anche a piccata ma fatti la identifica per i finiti a tutti e per me che è citato dai doc scusa è il donato eh ma uffa mamma non riesco adesso scusami sta un luco ahahah ahahah dai sto un posto adesso sono serio è uno youtuber mamma ehm sì sì adesso tanto finito ma vai tra c'è voi due ragazzo cazzo manca dio santo no cazzo è un pezzo di merda voi due litigavate sono arrivato io da nulla boom superate il sabato da c'è trassa di schidma ma come è che voi due eh vabbè però cristo è santo mamma mia no io la fk cacca ah boh ultimo giro sento che sta mappa è divertente non senti giri cavolo no vattene a cagare cioè scusa io ste curve non mi le faccio lentissima io ho superato YOLO facendolo sbandare no tranquillo sono la fk YOLO no no prima io prima le ho fatte un testa cosa e si è sbandati entrambi però io ho visto l'ho visto no mi ha fatto ridere più che alta la scena perchè avate tutte due lì al combattere di voi arrivo io da nulla boom superati entrambi c'è un vero uomo aspettami ma vattene a cagare i tuoi vero uomo tu se sei una vera donna superami ciao YOLO ma io dico mi ma io vinco mi dicono YOLO come mai sei ultimo dai Gaider sei un figlio di c'è Luca l'hai sdoppiato e l'hai dovuto fare questa cosa ma non è vero ma intanto arrivavo in ultimo lo senso ma non è vero invece si ero dietro a Luca Luca caldo no minchia se non mi prendo mai col soldi minchia se non mi prendo mai col soldi anche se sei sbagliata sai perchè sei un doggy match non ho avuto check point perchè hai ha avuto check point peccato che noi non ti abbiamo sdoppiato Gaido 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 non concludere aspettami per cazzo no YolO scusa questo qui dice col cavolo due secondi fa quando lo fai mi fa se sei un vero uomo aspettami Ma perché da quando Gaido è un vero uomo? No, io gli faccio, io gli faccio Tu sei una vera donna, superami Non vuoi preso il checkpoint? Io l'hai 25 secondi per finire da Ho appena fatto tutta questa cosa di nuovo Cioè Gaido non contento di sdoppiarmi Ma pure ha fatto il capovolgine Ha dimenticato il checkpoint Gaido Peccato che non ti ha sdoppiato Se lo ridevo come non so cosa Mannaggia le mamme che non capiscono i figli Che vogliono fare di youtuber Arrivato primo, Smanoflow E non ho vinto soldi Scusa, io ero tu, volevi vincere soldi Ma non gli ho vinto io, che sto arrivato primo Io l'ho vinto soldi? No, io lo volevo vincere soldi Ma non gli ho vinto io, che sono arrivato primo A me non hanno dato proprio niente Ma neanche punti esperienza A me punti esperienza me l'hanno dati 100 Non voto Sì, a livello 40 Campo da golf, campo da golf Il terzo No, no, io metto il campo da calcio Va bene Mettilo Io adesso non poto urlare però Ok Ma come è giusto online? Ciao mamma, buonanotte Ciao mamma Ciao mamma Ciao martinesti Tranquillo, sto giocando con degli amici Eh? Per domani? Sì mamma Ma la macchina, per favore Mi ha dato il tuo papà È casissimo Che diglio, a lui Ma Yoro? Yoro Oh Ah c'è Boh, c'è una mamma che mi stava rimproverando Perché mi ha detto Ma che bello è? Ma tu hai scelto il campo da calcio Testa di calcio Ma come ti permetti? Tu sei scena Raga, io ho la mini di Mr. Bean E tutti ci abbiamo Testa di calcio Ma no Come ti permetti a dire Che un'auto schifoso E' l'auto di Mr. Bean Tu sei schifoso Ma che non sa tu sì Raga, mettete pronto Io punto 100 dollari su Me stesso 100 dollari su me stesso Io l'ho puntato su me stesso 100 dollari su me stesso Raga, che merda Ma 100 dollari li pede, rai Non era un campo da calcio Io ho scelto il campo da calcio Tra Non è che se una palla prendeva Cioè, prendeva Io l'ho cosa Cosa hai fatto? Io l'ho Ecco me Aiuto Io sono andato a sinistra Per fortuna Ah, ma eccolo Il campo da calcio Mi schia che è bello Ma non giochiamo a calcio Questo è il problema No, ve lo fanno Un testacolo a fish In questa macchina Ti prendo gli schiaffi Con questa macchina L'ho fatta da solo Vai tranquillo Oh mio giro Ce l'ho ripresa in testa coda La macchina del capo Fa un buco con la gomma La macchina del capo E io ho sbandato Ma che si Raga, io a giro mi lascio tutto Che tu Mi porto Tanno su proprio Io La mia ancora è intera Tu, io Anche la mia La mia è idem A parte un po' di pneumatico Raga, come si fa di generazione qua? Eh Ti è ripenuto ti angolo Ma stai cito Testa di cat Ma si dai povero Mi fa tenerezza Chi è che ho soppiato Ciao Io a loro Ciao Ma qua fai tutto Grazie Anna Gabriel Grazie a di tanto La macchina di Mr. Bean fa schifo Ma tu fa schifo Guarda che modificata È una bestia Come Mr. Bean Quando la guidava Anche ho sbandato di nuovo Che cazzo di macchina è? No ma sei Mr. Bean Non ho capito Cacchio Con sta macchina si descrive Luca Mi parli di Mr. Bean Io lo che prendo a cance il pallone Oddio Oddio Ma che schifo Io mi devo fare un tunnel con sta cosa Ma come sono secondo? Ma scusami Ma come? Eh 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 Con la magia Ma tu sei appena arrivato al tunnel Io c'ero già dentro Ma? Vabbè 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 fa culo Eh Allora ho usato qualche atto di titia No l'auto di Mr. Bean mi sbanda troppo No davvero? No l'ho sapevo sai di qua Grazie a me l'hai detto Ma no Fra sono un secondo da te Fra sono un secondo da te Cioè Io ti sto dietro di un secondo Luca stasera è nei panni di Mr. Bean Sbanda Uno dal giorno Non sa le cose Minch ha centrato tutti i buchi Io ho centrato tutti Visto che non arrivavi Ed è venuta a chiamarti Eh Ho potuto direttamente chiamarti Ma scanna flow Ma regà controllo e scarico Mannaggia ti Oddio Sì Sì Ma dove siete esattamente? Ok eccomi Lo messo in carica apposta Io sono anche quella lontana No no non ce l'ho qua dietro Io non so neanche dove siete Io sono lontano un miglio Ah no ciao Yolo Dai raga ho puntato 100 dollari su me stesso Non posso perdere i miei 100 dollari La posizione sei secondo o primo? Sì ma questa qua è una macchina da rally È una macchina di Mr. Bean Cosa ha detto che non è l'auto di Mr. Bean? Come ti permetti? Eh Non è bene il certificato Ma che certificato è certificato? Oh Mr. Bean manco stato da cos'è Un foglio di carta A quei tempi Ti voglio bene Mr. Bean La cosa bella è che c'è i suoi diversi film di Mr. Bean Dove fa l'investigatore E parla Io dicevo Ah no questo ce l'ha Ah scommetto su Luca Posso cantare l'auto blu E non ho preso No sono un guide Non ho preso il checkpoint Vandaggia ti Perché dove leggeri i commenti Ah scommetto su Luca Non ho preso il secondo Eh sì fra stavo leggendo i commenti Si è che per la calci parlare da calci invece di correre Si è uno che ti ha detto che il ciclo è la calci Sì è uno che ti ha detto che il ciclo è la calci Sì è uno che ti ha detto che il ciclo è la calci E scappo con Abdullah No io l'ho Chi è che ti ha detto che il suo cantare auto blu È un mio vecchio compagno di team Uno dei vecchi GC Ah che stavo un tionto vecchio compagno di scuola Ma perché non ho detto Ok Ve l'ho detto auto viola Io dopo tolgo l'aiuto in coda E vedo come Gaido mi recupera Chi è il secondo adesso tra voi due? Io Gaido Tanto io sto dietro a sta troia Sì io lo ma tu perdi tempo a giocare col pallone Fai un po' te Io devo leggere i commenti Ho sbagliato perché ho letto i commenti Poveraccio Io lo ma metti i commenti di fianco adesso Tra mi da fastidio Oh ma mi lo ti do fastidio Sì Come dire Che bello Ho scommesso 100 dollari su me stesso E boh Niente mi sento link Tutto ciò la mia auto non è andata neanche una volta a sbattere È ancora intatta La mia è intattissima Ci credo quando le spawni si aggiusta La mia è intattissima Giro 3 su 3 E c'ho Gaido davanti Che sta schivando i pali Vai 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 Gaido sta schivando i pali come schiva la figlia Ahahahah 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 Ah beh è una battuta a dire Ma poi ci si metta a piangere Io ma Cazzo La dico Eh vai Chi ci schiva i pali come schiva la palestra Come schiva la? Che cacchio No vabbè mi è venuto in mente Stavo perduti Come quella volta che gli hai detto Che si fa un negozio No Mi ricordo Un sera Un sera In live Eravamo in live No Non eravamo in live E giocavamo così Io Michele Gaido Il Vaian Alti due miei amici Un altro Ah no Ecco Gaido Gaido Su Destinity No grazie Non ci tengo Aspetta Destinity E tipo Altri E tu hai iniziato a prendere il culo Luca Lui si gira e fa Ma stai zitto Che se vai al negozio Non trovi una maglia È l'altro misura Luca domanda Quanto sei alto Io No Gaido Gaido è più basso o più alto di Ryan Ma più basso Si parla Ah ok Allora sono più alto anche io di lui Perché sono più alto di Ryan adesso Quanto sei alto Più alto di Ryan sicuro Cioè Anche dietro Sono più alto 7 centimetri Non le parole Tu e Luca Quanto sei alto Io Io 1.70 1.74 Si Mi chiasi Nano Cresti Io Io passo delle ragazze Figa ti giuro No sto scherzando Ti vogliamo bene Luca Certo che io Bisogna dirlo Ho impassato Un botto di casino Do di avere Luca A prenderlo per il culo Adesso che giochiamo A GTA tutti insieme Lo inizia ad apprezzare Ma sì Ma perché prima Era una testa di cazzo Adesso è Più simpatico E cosa avesse cambiato È più simpatico Ti giuro No sto scherzando Boh io ho concluso la gara Buon per te Sì ho vinto i miei 100 dollari Cos'ho messo su 2 Devo facere una gara decente Non sta merda E la scelta Luca Eh Non so che il campo da calcio fosse così Lui pensavo che avremmo giocato a calcio No io non pensavo qua in verità Pensavo qua come era la gara Luca pensavo Pensavo che avremmo giocato a calcio Vai Adesso chi ispetto Io lo so Hai ancora dietro Luca No sono secondo No Non lo so Per poco Io Ragazzi Stai schivando i paletti Come non mi ricordo Io sto schivando Io sto schivando Che si poteva rimaltare Io sto schivando i pali come scrivo la felicità Stai schivando i pali come scrivi Raya La felicità Ma io avrei fatto la sparatoria con i bubble tea Con le bolle Cioè Raya è arrivato a casa con la maglia arancione No fra ma alla fine di sera gli si è attolto il colore che ha piovuto Ah Che sfiga del cuore No 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 Vai Luca Vieni malpato Luca Muoviti Luco No 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 vedo il treguardo vedo il treguardo vedo il treguardo Luco adesso Oh my god oh my god gucci 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 Che gucci 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 Buo luco penso povero Ma io non ho mai amato gli sterbino Ma il cane Ho vinto 10 mila Guarda io ho ho guadagnato 4 mila dollari Io ho guadagnato 4 mila dollari Io ho guadagnato 15 mila 250 Ragazzi mi diventa una legare E ne avevo puntati 100 su di me Sì ho fatto la faccia Sopo la faccia Sopo la faccia Boom boom ma come scuole un voto raga facciamo aspetta facciamo il campo di golf no 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 raga no no raga no no raga no per favore aeroporto raga io farei la mesa la maze la maze si la hearting della maze in alto a destra no ma che schifo è quella di prima no no non è questa di prima fra è un'altra quella di prima è nato a sinistra ma è quella stessa auto dico ah beh ah beh Luca non vuole perdere ma se prima ho vinto ma non vuole togliere la sua vittoria di prima non vuole lasciare il posto da campione ho vinto due volte di prima di prima non me lo giri stavolta mettiamo 3 hai messo 5 hai messo 25 ecco distanza 4.38 km madonna Luca manco un mezzo riesci a farsi 5 solo per te ma che schifo st'auto non c'ho manco i fari ma un affari st'auto che schifo no boh io la lascio nera io vedo un po' allora lascio viola e gli metto così ma boh io ho cambiato coso per ballare boh io punto su di me 100 dollari ma se io punto di 100 dollari quelli le vincitori le vincite no li punti in generale in realtà non li punti su un giocatore tecnici no ho messo la nuova nuova scusa ci siete ma la storia di partire ultimo per favore dai c'è cazzo sempre l'ultimo ea di di ultimo o non è quella di primo e' idea in questa nata ma perchè luca esce a feste la partenza come si fa ehi turbo devi tenere il mondo io sono nella cea ehm ah ah non com'è il falco ah si voglio vedere chi è terminata subito vuole spellervi mi spiegler perchè ti spero beh io ho paura io sono io sei bricoloso non mi so viva Dallas viva Dallas io è davidista sto vinciando per loro ciao luco Non ti ho fatto niente stavolta, prego Brutta troia Ma io non gli ho fatto tutta questa cosa perché ha detto viva i ballas Ma l'ho detto dopo, viva i Dallas Eh vabbè Dallas Ballas Ballas, stai stai dico Luca dice viva i ballas ma non sa neanche la storia di San Andreas, ma comunque per me Io la so e la dico solo per figherare Corso Eh, per figherare me Perché sono dei femmili In tutto ciò io vado sin Sì americano, è la cittadinanza americana e sei nel giro dei femmili Ma sei scemo, San Andreas sei un'isola inventata Ma stai zitta, baddine Ma non ho fatto tutta questa cosa sto botta pedali Cosa, 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 cosa per l'aluzzo Mi svegliava, mi svegliava, mi svegliava, mi svegliava, mi svegliava, mi svegliava, mi svegliava Mi svegliava, mi svegliava, mi svegliava, mi svegliava, mi svegliava, mi svegliava, mi svegliava Adesso ti recupero, svegliava Ah, sì, sì, tu recupera, 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 dai Non c'è l'uomo dietro, troppo Eh, sì, troppo che ti entri in scia, fratello Da poco Da poco si significa, da qualche ora, da qualche anno, da qualche mezzo tonno Ma andavo qui, mi sta dietro, è come un cane, è questo Giro pulito Ma cosa giro pulito Magari non penso andare gli altri Ma com'è che questo fa la salita più veloce di me Eh, il pezzo del guidatore No, ma chi Godo, Godo, Godo Godo di più io, testa di cat Cosa Godi, giustamente, Luca Gaito? Non c'è, non c'è, non c'è 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 Ma noi ci stiamo pensando divertire, mica Infatti, io so In tutto ciò, Luca Gaito è il primo Cioè, io ero prima quando Luca Gaito dice No, dobbiamo puntare il primo, poi lui puntare il secondo Se no tu puntavi me se provo a superarti Ma cosa dici? Io puntavo anche Luca Gaito Anche se prima non l'ho colpito Perché non voleva rovinare la sua bella faccia e la sua bella auto La mia bella faccia? Eh, bella di poco Ma ti sei visto attuale che hai più gli occhi spalancati di quando vedi una ragazza? Hai gli occhi spalancati più di Doraemon No, mi dissocio Io mi associo Vai 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 E non ho scegliato, non vediamo chi li devo Vai, perché ho chi li devo Vai, perché ho chi li devo Vuoi trenare? Io lo No Peccato Non so che ho chi li devo Come giro 3 su 3? Già Ma perché vado lento? No No Cazzo 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 No Gaito 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 mi devi fare un favore appena lo vedi buttalo giù Ma come ti fa vedere? No ma io stanno avanti oh Cioè Lo so ma appena ti viene detto tu buttalo giù O mi paghi una macchina da un milione di rosario o niente Infatti ho già fatto la ricarica da un milione e duecento Io oggi ho fatto da un milione e duecento e cinquantamila Ecco Bene, o mi compri l'attico al casino oppure no? La cosa più inutile del gioco l'attico di lusso Se vuoi ti compro la macchina che costa zero Però paghi trecento Però paghi trecimila di cauzione Cioè di cauzione si Hai capito No non ho capito Di assicurazione Costa zero ma se la distrugge paghi trecimila di assicurazione No 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 In realtà non costa più zero Quell'auto lì Sì Quell'auto lì soltanto quando ci sono i tetti scontrati costa zero In totale costa centomila Quando non è più in sconto Lo so, lo so Anche l'auto di Franklin con gli anticolori costa zero Quando è in sconto No no Non deve arrivare secondo Non deve arrivare secondo No 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 questo arriva secondo però Ma poi dai una gara che ho perso non devo sempre vincere Devo sempre lasciare Ogni tanto devo lasciarla vittoria ai perdenti Fa col culo Fottiti Ma stai muto Ne ho vinte due di fila Tu sei Vato sempre ultimo Ma come ti qua 4300 Ma che poverata Ma che poverata Ma dai ma sembra sandalo Ma tu vai a rapinare a Bangladini Tu valgono di più di Varian Ezza Sento che Il saluto triste Il saluto più triste che abbiamo visto su GTA Ma perché Luca vota mi piace ogni gara? Perché così me ne salva No adesso faccio la prima Adesso faccio la prima però Va bene dai Con le mini auto Una figata pazzesca le mini auto Hai sulle mini auto quelle? Si E le mini auto quelle con cui gioca Luca? No No ok io gioco con i mini trattori Magari Tu gioca ancora con le barbie cosa ridi? E' una nostra live di stasera solo ignoranza insulti per scherzare Sì Potremmo vedere un attimo la chat C'è che ha mandato Noo un certo rig fixi JTA Ha scritto auto blu auto blu Raga ma qua ci sono le frecce per cambiare l'auto ma non puoi Io lo vedi cosa ti hanno scritto in chat? Si l'ho visto l'ha visto La Lengabri o un insta? La Lengabri si si chiama Ma che cacchio ne so io Oddio ma guarda che figo Raga io metto un sal... no 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 Sarebbe troppo Si per te si Adesso Scommetto 100 dollari Su di me No Mo su di se stesso Ma neanche No voglio mettere il giochetto con la moneta Che parlo delvido Raga com'è che si guidano queste auto domande? Sono piccolissime non lo so Madò ma che è? Oddio no ma senza collisioni che schifo Info Ma da me No Raga aiuto Raga aiuto Raga si tiglia Raga 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 Io sono dietro io Ma non capisco il direttore Raga Raga Cacchio ma che schifo vuoi fare? Ma sono scemo No ma dai, dobbiamo diventirci un po', non possiamo fare un suo mappe serie Ti aiuto E vabbè Luca se vuoi ti consigli un monopsicologo, l'avevo già consigliata Fish Luca, Luca, Luca vetti a schiantare una volta, guarda che succede L'ho già fatto Stiamo su, sei autosiguiti online, sono fighissime ma sono inutilissime Cioè sono figo soprattutto per farsi i fatti proprio Ma quanto costano? Più di un milione Ma cosa? Che ladro Oddio, che cacchio ho fatto? No no raga, dove siete matti? Aiuto Ma dove si muomo? Ma io devo fare il giro di otto Sì sì, io ho sbandato tipo per dici secondi, tu non hai avuto la possibilità di registrare Cioè, è vero, cioè così senza modifiche Ma ci finiamo conto Anch'io sbandato tipo per dici Guidiamo in prima persona, guardate lì è un persona più figata, è più figo, è più comodo No, in prima persona è più comodo, ma va a casare Sì sì Vi sto appena su Ma è vero, guarda, almeno non vedi da visuale Giro due su tre Madonna Ma comunque mi fa che abbandonera prima di finire i giri Vabbè, io di... io raga, io di sotto un faro Ma come si distrugge un faro con quest'auto? Cacchio, non si distrugge un faro con un cavo armato No raga, in prima persona è peggio di volare in prima persona con una macchina normale Ma se ogni trocai te l'ho sbandato per mezz'ora Salutata Grazie Prego Mannaggia No, io non ho preso il salto mortale Io ci volevo farmi sbandare, ma non c'è giù Ma io sono sbandato la sua luce e mi è saltata sopra di te Ma giochiamo a golf qua Che lei dite se dopo suggerite online e giochiamo a golf? Aiuto Lo facciamo Come si usa sto macchina? Madonna, io lo... No, raga, mai più Sappiatelo Se volete dopo circolare all'aeroporto, sempre con la stessa macchina No, no, no No dai, però ci sono solo le gare con l'auto di Mr. Bean e con quella senza fare Io lo facciamo legare quelle lì tipo con la Deluxe, l'auto volante Con i dirigibili No, non sai guidare Non sai guidare Ma tu non sai guidare in generale E niente, ho rotto in acqua E niente E niente questo qua Come hai detto? Ah, sei il secondo appunto Io sono primo Sì Ma non si può se non romper i pali Come no? Io non ho rotto uno Oddio 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 Oddio, non puoi capire, si alza sui mie ruote la mia... la mia... la mia... la mia... Non ho preso, c'è qua indietro, mannaggia E che c'è questa suoneria del cavolo Quale? Io sto sdoppiando qualcuno Squishy Squishy Ho sentito Squishy E faresci in verità quello che è Ah, ho sentito Squishy io Giro 3 su 3 Primo per tutto il giro Certo Perché io sono... Luzca sti Sti due sono... Yolotkish, Bot e... Gado Conto sbandano Ciao Yolotkish Vabbè ragazzi Vabbè ragazzi Non me non do Ma sono troppo belle per farsi parte troppi su diite online Sono inutili Oddio Perché ne ha fatto manchi di quelle... Ma che figo, ma sei guardate c'è un altro guidatore alla nostra destra Si, l'ho visto Quando mi sono andato a schiantare Perché non cade? Legga mai più queste gare Mai più Fino adesso abbiamo fatto gare noiose Dai, noi in cui ci divertiamo Oh... No, la cosa bella mi ha fatto ridere Ma perché non ci sono le collisioni? Boom Vieni, 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 vieni Seppure devi eviti a distruttare fischi Adesso io lo aspettavo Ah no, ok, è l'ultimo giro Oh no Ah no, io non ho finito manco il primo Ma non ho pensato, non ho pensato Ok, ho finito la casa io Io! Aiuto, aiuto No, c'è questa dall'altra parte Aiuto Ok Sto aspettando Yolo Dovresti aspettare a me, Luca, a vedere Ma col cavolo, tu sei quasi arrivato Io guardo Yolo In tutto ciò, Luca Gaito è ad algo più alto di Yolo Yolo Aiuto Anche il che si tratta nel laghetto Sì, io lo si Anche io Io no No, strano Por che va a sinistra? Oh, aiuto Oh, d'accordo No, non ti dirò Va Domani le vi Domani le rifacciamo di pomeriggio Eh, mi semplicemente ma il pomeriggio Ah, già è vero Ormai non è giamento Ma vado all'Aquafan E dove è l'Aquafan? Eh, tipo Asti Vido Io non ho anche questa gara finisce Asti Vido Tipo, no, non è Asti Vido Ad Asti Ma mi ricorda cos'è Ma Yolo neanche sta gara finisce No, le ho finite le altre Questa non la finisco proprio No, in realtà non hai finita una in realtà Una non è finita Adesso due non hai finita Questa è un'altra prima Non c'è due senza tre A me tre sesti Beccato i soldi A me tre sesti Beccato i soldi Rango 17 Ma come mi rinnovate Ma sono arrivato primo E non mi hanno beccato Poi due Ma è peggio di una gallina Quando lo stanno per uccidere Ma è peggio di una gallina Quando lo stanno per uccidere Ma è peggio di una gallina Quando doveva essere Ho votato Ho votato Non mi piace Io voto il faro No, raga, raga Ok, anche il faro Stavo dicendo Votiamo quello in basso a sinistra Ma queste sono le auto Che odia Luca Quella col faro Fuori No, a me non è che le odio Non hanno i fari È una cosa brutta Ma gu, a meno male Che c'è un faro Di fianco alle nostre auto Senza faro Vai dai creatori di GTA Di lì Weh, weh, non avete messo i fari Ti rendi conto Che sto qui Fino a prima Criticava tutte le cose di GTA E adesso dice a me Weh, 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 non avete messo i fari Che fino a prima Criticava tutte le cose di GTA Raga, mi fa mai il culo Cioè Criticava l'autobus Sono seduto Sono seduto da stamattina Sto a sedere di merda Criticava i laser Criticavo Tu dai luogo Sì, ma cosa sei auto e palle Vuoi per una volta vedere La mia azione vittoria della sega Denaro da scommettere 21.400 Sempre sei vince dai Sempre sei vince dai Anch'io voglio stare senza tuta Allora luogo, come hai fatto? Eh, nelle varie opzioni c'è quello senza tuta No No Ok, non ho preso la tuta di Elvis Pessi Ancora ultimo Mi prendo Ma come ancora ultimo? Sono io ultimo Sono io l'ultimo Ragazzi, sono io solo il primo Ma Ah no, siamo una pari No, ragazzi, non scordi No No Sto a sbagliare Sto a sbagliare Con i vantaggi sono stato io Raga Votato in chat si devo bannare Luca Io Ma perché io? Spera Ah, godo Non mi ho fatto in una scena Io non No, a me, raga, è piaciuta la scena Perché Luca c'era tutti i modi di farmi sbandare O quel che era, Fisci, Luca, Chi era, non mi ricordo Luca Io ce l'ho avuto a viola Io ce l'ho avuto a viola Senti tu quella che c'hai È bello che uno di due mi voleva far sbandare Solo che non ci riusciva Raga, mi è cortissimo sta mappa Ma come è stata pochissimo Meglio Non è un secondo Ma dò, io l'ho voluto farmi sbandare Sbandare il capito giù Ma perché è così corta? Perché è gratuito Perché l'avete scelta voi due Io lo ho commesso Guarda per non far Far piangere troppo Luca Sì, sì, come no I tuoi insulti soltamente scemi Che appena ne tiri fuori uno Ti si impicciolisce sempre di più Il tuo cervello minuscolo che ti risulti Perché oggi le battute copiate da altri? Ma io non ho copiato da nessuno sta mappattuta È vecchio sta mappattuta È antica Un guide nella prossima gara Nella prossima gara Tanto sappiamo tutti che la sua moto sta a verde Come nei femmins Prendiamo di mira solo lui L'arma è viola Ma come ti permetti scusa? Io non capito Allora in che metterò la macchina verde? Mettiamo tutto il stesso colore Blu, mettiamo il blu No raga io lascio il nero Eh io lascio il nero Cioè io lo volevo prendere di mira me Soltanto perché c'è l'auto dei femmins Luca che non mi mi può andare a fare in Perché mi hai fatto sbandare Pezzo di me Ma scusa siamo stati io e Luca Tu neanche i campi miei Non mi fate sbandare Ti sei venuto a posto Di quello al centro Minchia allora Che cazzo Quello che è riuscito bene Dalla situazione Sono stato io Anch'io Cioè ero secondo io però Io prima non sono manco stato sfiorato Tra un po' Mi ha fatto ridere la scena Perché Io lo fa Ragazzi non Non Venite Ado Ecco E poi vedi che siamo andati Io e Luca Adosso Un po' Il friolo di mondo Adosso Ragazzi io ho guadagnato 2510 dollari Io 3510 Io 3510 Io 3510 Io la metà di lusso Sì Era questo il ballo che volevi Luca Io metto mi piace Io metto non mi piace Ragazzi io metto la Quella in alto a destra No 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 rega No io qui No 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 Bravo Ti stimo Ti stimo Ma sono gli stessi Sono le stesse Non abbiamo di diverse Ma piuttosto ne cerco una quella deluxe Cioè torniamo alla lobby Quella deluxe E' infatti Si vanno dai C'è un po' ragione però Cerchiamone una dove selezioniamo noi l'auto Io si l'ho detto fino prima io Cosa che c'è C'è un giovane Ma l'ho detto fino Ma tu sei scemo Ma l'ho detto fino prima Ma non che selezioniamo noi l'auto No boh Usciamo Usciamo No no raga ormai la finiamo Eh va bene E di lo primo Da sono tre giri Magari si era accorto come il cervello di Luca Oh dissi Luca tu non hai un cervello No basta Stambo Per favore Luca nomina i cervelli perché non ha uno Quindi è geroso No no io dopo ne cerco uno con la moto Vaffanculo Sì Aspetta sto cercando Ok Fatto Stavo cercando Ah ma è Forse un cudo Io lo Luca è quello al centro Che facciamo Lo prendiamo? Sì va bene Eh Lo prendiamo Luca è quello al centro Ma è so che già inizia Ora ci sono Come cacchio facciamo Fai forza un cudo Che è ancora più difficile E come cacchio fa Luca adesso è qui Ciao io Ragazzi se voi due vi qualizzate contro di me Uno di voi doveva andare per forza primo E quindi due dobbiamo qualità Un nuovo Che incemo Luca non puoi capire Io lo mi starei davvero fino adesso Vedi che vado a smaccare Io non volevo schiantarmi contro te Luca Eh però mi stavi seguendo E devo prendi la scia Eh vabbè niente Raga ma io Ho buttato giù un palo Cristo Visto riesco a fregarti Luca che stai infacenti No ma io c'è il point Non rompere No ma io c'è il point C'è il point di riportare un puro Gordo Gordo Ma dietro c'è il point di riportare un puro Guarda come una 07 Ma perché devo fare il giro giro Tondo mille volte qua Alla mille in uno addosso Ah tu stavi girare Io no Eh vabbè Un altro 60 per favore Ok ragazzi Con la moto non mi batte nessuno Sì sì Tolgo le collisioni Le tolgo Le tolgo Sì sì Le tieni Io e Kish al inizio ci eravamo Bangardi Eravamo Ci credo Sta cosa diventa visibile Prima delle collisioni Chi è di Arturine esattamente? Luca Gaido? No 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 Se che uscimi di sotto Eh se che uscimi di sotto Sono terzo Come facciaste io? Ah Grazie dell'informazione mio caro no quando poter è curva e prendere la ma io non sono anche senando questo è bello io sono pronti ma anch'io per la propria data che mette il seno mano quando fate le curve se le fa come se fosse noto normale provate se guarda inizio fra io sto facendo perché tu non sei normale vabbè io sto facendo io sto facendo ma anch'io più tanto con sto auto che sbandono un casino non mi senti giuro a prova con tutto l'ultimo che mi è chiuso in giro lo sto facendo io fra lo sto facendo io ma ecco perchè ecco perchè ho recuperato luca c'è son terza sono dietro i luci e lo dietro i luci o più anni di andare a sbattere contro un palo c'è comodissimo luca prova poi dico provo quando arriverò alla fine ok domani le cioè lunedì le rifacciamo i pomeriggio si ma anche domani si è ma dici tu ogni quanto che hai le like ogni quanto? fai le like ma quanto c'ho voglio questo è bello non è neanche uno youtuber organizzato e dice a sua mamma faccio le like mi posso venire e in grado ha 100 iscritti 127 intanto ho più follower su tiktok e su youtube mi vergogno quanti followerai su tiktok? nel mio vecchio account o meno j avevo più di 500 iscritti eeeh nel nuovo? in questo qua che ho adesso 127 ma dove meno j non esiste più eeeh ne hanno rubato l'account 127 questo è come sto streammando nella condizione di meno j ne avevo 500 e passo eeeh no lo vengono a dire più c'è l'altro giorno ho cercato dove meno j e lo so fra proprio perchè l'hanno hackerato io l'ho bloccato eeeh no boh io sono un bravo con sta auto io lo le odia Luca invece è indifferente ma no Luca Luca venami a live Luca venami a live guarda che è successo adesso perché fregati soppi aspe non posso che mi rispondere a vedere cioè mi ha tipo laggato non so come ma te hai trasportato io sono su sbattere due volte che culolo scusa con la superfibra ti lagga no non lo so tipo ti giuro non capisco il perchè ma ti torna io non ho apposito di prima è fatta ma però sta ma pari forza un cudo è figa cioè mi piace io concludo ecco visto però non ho con sta macchina io concludo raga dopo torniamo alla bv cerchiamo uno allora lo cerchiamo ma questo è da fare ancora su foto ma puoi mettere una mappa in cui possiamo scegliere noi le mappe no una mappa con le moto e scegliamo le moto no facciamo dopo le moto una mappa con la del axo infatti dopo le moto la scegliamo la iquod che si trasforma in motoscafo raga dopo non c'è nel senso non quittate che forse c'è un modo per metterle anche no non c'è non c'è non c'è non c'è non c'è aspetta che voglio lo ah no ha finito una gara ma l'affanculo ahahah ahahah e adesso è il 2500 2500 io 490 raga ma cos'è il jp scusatemi forse non so raga cos'è il jp? che figo che sei eh? il jp cos'è? eh buh raga un attimo fermi ma non le puoi mettere? no però esce facciamo esce no non c'è giorno fra si esce esce io ho abbandonato anch'io perchè vedi ancora quella faccia la perla di luca mi vengono gli incubi stanotte ahahahah ma a te vengono gli incubi anche se guardi sei la tua parte te stesso gli incubi mi vengono lì su come modernizzare la moda Su come modernizzare la moda? Questa me la segno Su... Su come modernizzare la moda dei sceni, come te Allora, vediamo un po' Perché sei responato a Forza Uncudo? Beh, forse perché l'ultima gara abbiamo fatto a Forza Uncudo, genio Anch'io In tutto ciò ho guadagnato più di 37.000 dollari facendo gare Raga, ma son da solo Anch'io No, vai tra l'altro, adesso ti invito Attività, alvia attività Cioè, più di 37.000 dollari solo con le care Basta una flow Che figo, Forza Uncudo Di sera, poi No, non usiamo la macchina in si, grazie Neanche questa Aspetta un attimo Non forse questa dopo ci penso Ma te lo ha so No Neanche questa mi fa schifo Oh, sì, ok Allora Vediamo qua cos'è Questa Dai qui si modi E adesso scendendo una figa No, 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 il camion, guarda È la pula Voglio rincorrere il camion Per far saltare Per farlo saltare in audio Ah, mi sa che metto questa No Raga, è scomparso il camion C'è da un camion di benzina E diventando un camion Per le patatine Si cazzo Oh mio dio Le mie scolte valgono 80.000 tolla E domani le vendiamo Sì, sì, va bene Con me L'accontati Raga, mi invitati Eccola Hai un po' di sonno No Prima ho provato da guardare una chitata La roba più difficile Della un'universo Ah, niente Non voglio distrazione per battere il zoluto Eh, io mi sono in moto Lolo Oppure c'è una roba fighissima Con le moto C'è dove becchi la scia Esplode l'alto Sì, lo capito Eh, ma non so quale Allora Eh, se c'è la Luca Puoi metterci il zoluto Prendiamo la stessa Dai Prendiamo la La The Filler La La The Filler No, la The Esk, esk Esk Sì Ok Esk Sì Non puoi tagliarla tutta, grazie Ok Ma io la tutta la voglio Io no Io l'ho tenuta Senza casco Guarda Luca, ti ricasco per proteggersi Io non l'ho messa nel casco Nella tutta Io ho solo il casco Oh, che ribello Guarda Luca, lui si protegge Perché lui rumore facile No, io non ho messo nel casco Fino a due secondi Tu la vedi Fatto con l'impennata Ho impennato Ma Luca non ha preso la nostra stessa moto Guarda che scegli Cioè No Ma Luca, grazie al cazzo che va più veloce Ho usato la moto più veloce Io non lo sapevo Voi mi ha detto Io vi ho detto la S-K Ehi, eh, lui mi ha detto Luca mi ha detto sì Eh La S-K Poi cos'ho accaduto nel M6 Non ho fatto a po' Io l'ho mai visto Solo fa e dito meglio a Luca No No Ma non si può sparare Non si può essere solo il terzo dito No, no Non si può, no Non so come è successo Ma hai fatto sbandare Luca mi hai fatto sbandare Sono scivolato Come mai tu vai più veloce Non è la stessa moto Sono in scia Non avevi la scia Come cacchia facevi No No Luca raga Io mi dissocio Perché io che so Luca Luca ma questa è la moto Lui è di tu di sì La S-K È qualcosa Tu hai preso la carbon F6 Cosa lì? No Io ho preso la S-K No Hai preso la carbon F6 Fran Infatti Cioè E dice a me mi dissocio Ma perché la mia moto è rallentata? Oh Oh No in scia sto bastardo No 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 aspetta No è che sta roba No 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 aspetta No è che sta roba Come ci dico sul pass? Così tanti? Io ho chiuso e ho fatti Nooo 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 Io ho generato Anche quello che ho potuto vedere Anche se sta preso il camere Anche se sta preso il camere Nihah Nooo Nooo Non è che cosa puoi fare di video Adesso ho potuto vedere , ma non ho potuto aver prof capello Interventivo Tante male di un bravo scema che sono guarda che cos'hai tu quanto avanti dai gommi sotto il giro non pensavo fosse così lungo ma non abbiamo anche il primo giro non pensavo fosse così lunga puntata cioè io non abbiamo una moto in motociclisti questo c'è la moto delle gare ho fatto il backflip bravo adesso cade e muore no no ce l'ho fatto perché non fai un backflip anche nella vita reale penso di spaccarmi qualcosa guarda che sono il secondo giro non c'è un foglio di fare il tuo ricerzo no oh mi ha superato il checkpoint ma di quali mi sono la dittoria Luca siiii mi ha superato il checkpoint prova a fare un backflip guarda che ti supera il checkpoint lo so ma tutto per questo non l'ho fatto frontflip niente soccorso di nuovo fuori oh god fra mi aspetti ti prego quando sarà il terzo giro potrò riposare un attimo chiedi a Luca che devi aspettarti non a me si raga ma io perdo perché provo le cose figlie ma invece i pezzi di me è stato guardato io non sto guardando io sto giocando si vabbè poi Luca prende la motociclisti Cristo è Dio della MotoGP infatti tanto lo supero tanto lo supero Cristo è Dio come un gariggiare come una Sanchez contro una Deluxe c'è c'è un'auto volante con una moto che non vuole è ancora dinario ho risciuto 800 rp per aver fatto un'acrobaccia oh mamma mia lo so sto scherzando non c'era un'auto non c'era un'auto di cessione infatti si capiva quello di cessione oh Luca senti il cattivo di cessione non c'era bisogno di con il cessione vado a 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 sceghergare e scantarmi la c'è un'auto di no c'è un'auto di nevolata ah mia mamma eh Luca ma quel cinghiale è da 100 kg? eh non sei più rivisto no a volte si rivedono gruppi da tre cinghiali oppure una mamma coi piccoli ma attaccano no noi ne diamo il pane ne diamo le pere diamo le mele Luca al solito i cinghiali ma che mangiare ma mi sto scherzando lo sai che è proibita la caccia a avere in questo periodo? ma in realtà la caccia ci vuole per me è proibita appunto ma io sto scherzando ma poi se gli animali non fanno d'animale perché ucciderli? ma sto scherzando eh ormai perchè ci diamo l'osso su GTA? ma infatti questo devo farlo spiegare non lo so eh infatti Luca la caccia è vietata tu lui spari? ecco perchè sei sempre ricercato e mai una volta non lo sei ma non li accendi il ventilatore non vuoi un scooterone si lega a me sono distante tre minuti da Luca ma sono serio ma non è vero tre secondi guarda quanto sei lì quanto sei? guarda quanto sei lì da me non da te no io anche da Luca cioè Luca guarda dove sono io per favore ma sei dietro di me? ho sdoppiato Luca sdoppiato Chris ma cosa hai sdoppiato Chris che è dietro di me? ma da quando sono dietro di te Luca magari? ma sei dietro di me? ma quando sono dietro di te? raga non ti vedo manco più sul radar ma sei zitto perchè sei coso la moto e la moto e la moto e la moto e la moto gp ah no non finito eh sì eh sì ho fatto un backflip così io non si lamenta no ma sono brutta per fare del laxo ma sono brutta per fare del lax dai regala il cioccolato al bambino obese ma stai zitto stai che gli occhi di dobbio ho detto obese solo perchè mi sei ricordato quello della fabbrica di cioccolato che non tinha mai cioccolato dentro la fabbrica come si promette ma stai zitto che i giorni in cui sei nato tu i tuoi si aspettavano una badetta di cioccolato mica uno schifo come te e io stavo ripensando al film luca gaido è uno schifo ma perché esiste e gaido tu sei nato l'8 maggio giusto del 2006 ma vai 15 maggio lo stesso mi dice mangio ecco perché il 15 maggio stavo sempre di cattivo amore che si è di pengero sempre in capa che è nato l'uso e' no perchè sei nato a me ti scherzo vi dissocio io se tu voglio rigareggiare adesso facciamo una quelle deluxe oppure facciamo quella lì bescucci job quale bescucci job guardi al labio guardi al labio l'ho fatta oggi ho guadagnato ragazzi sono sopra di voi di 8 minuti ma stai zitto stai no di 7 minuti e 20 sopra i mesi di 7 minuti e 20 non c'è sto cazzo di quando c'è la fine tra un po' di fermo qua e aspetto l'usso sè sè e l'usso dovrebbe aspettare me e' come se non ne credo chi t'ha detto comunque e' come se dici se io lo da un po' mi metto qua e gli regalo una schina ah io non ho mai regalato una schina a nessuno e non lo farò mai io non ho il 2FA 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 io ho regalato io ho regalato io ho regalato il ballo resi legato cioè a Shara non ho legato anche Aura a Shara oggi te lo volevo dire Luca cioè tu no dici che non hai 2FA quella sera mi hanno giocato io ti ho detto tu facevi il ballo bughi d'anti fincere quando si attiva i 2FA a parte che Luca Luca tu su Foren ti chiami ancora Luca Bomber vero? ma ma quello il suo vecchio account l'ha perso ah si no cazzo non riesco a fare sto salto eh no ah ragazzi un salto perchè è primo? com'è che son primo? scusa cosa ti è successo? com'è che son primo? non riesci a fare un salto ora che sono secondo riesco prima che ero primo no ovviamente e mi diverto anche se è un terzo oh raga ma sto per recuperare Gaido oh aspetta aspetta oh forse ci faccio cioè Luca Gaido è distante 7 minuti e qualcosa l'ho superato vabbè lì 2-7 minuti comunque stavo dicendo no frate non hai capito se Luca sbaglia qualcosa e lo recupero gli sto dietro ma va Luca Gaido un giorno mi fa e gli fa e gli fa e gli fa vieni qui che ti devo si se ne hai fatto primo Luca muori Luca muori muori Luca ma grazie ancora la mia vita era avanti tu invece che sei vecchio puoi anche morire ma quale vita che non hai manco una vita sociale abbiamo la stessa età no 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 I sì estas ritrovate ho voluto fare un backing ma che schifo è? un giorno se mi fai esplodere mi regali un ballo da 500 e lui va bene mi ha fatto esplodere e mi fa oh non ho i 2FA intanto c'hai i boogie down che si riceve con i 2FA e perchè hai i boogie down allora? non lo so io non ho il 2FA a parte da quello che mi ricordo ti ho fatto io il 2FA fra sul vecchio account non so questo hai vero sul vecchio sul vecchio non aveva buona si ce l'aveva si ma sul vecchio ducaa si parla di gennaio ma scusa e su questo come fai da avere boogie down non lo so ma io non ho il 2FA va bene te lo sto dicendo io che lo so non mi piace ma ho detto va bene grazie ci facciamo facciamo quella da next bank no una quella dell'oxo una quella dell'oxo no 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 ci finiamo stegare la tua cazzo quella dell'oxo però facciamo questa la seconda ecco abbiamo messo insieme luca ci intendiamo ho visto la so permettere la so permettere anch'io no si si come lo solo io solo le persone che si chiamano entrambe luca possono capire infatti il mondo si chiama lucazzo l'altro lu luca un muco luca un muco luca un muco luca un muco il cacchio è dopo questa stacca no dove vai rimando ancora un pochino ma c'ho sonno stasera non c'ho voglia di stare sveglio come c'ho fame c'ho sonno no 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 tranquillo dai tuoi svadigli non lo notavo mica che avevi sonno l'uomo guadagnare cattolo svadigli fuori io vai per il mondo raga la proto la protezione che vuol dire anch'io prendiamo la x80 la per 80 proto no 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 fa cagare quella io col cavolo che prendo no no fa cagare ma cosa stai dicendo l'auto che fa più schifo al mondo vabbè prendiamole che è tutto abbo prendiamole tre diverse vediamo cosa succede no 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 frappina la proto dai io prendo la proto io ho preso la t20 io ho preso la t20 non la prendo la proto quello schifo ma che schifo la t20 ma la t20 è più bella della proto vai dai ho preso anch'io la proto c'è la t20 ma ho preso la proto sì ma questo è la sisma però ragazzi mi subiola raga ho la domanda in quanti siamo in gara? perché ne ho visto uno dietro a qualcuno ma come ma? ma ma x70 proto avete preso due? ma x70 proto avete preso due? che bei bugialdi che siete voi due oh l'auto più schifosa del gioco cheat cheat la t20 è tale più veloci del gioco anche la proto frati sto dietro guarda L'hai sbandato più di te? Eh Ma che paura? Mi dovevo buttare Oddio Oddio Che paura Oddio Ho visto la scena, madonna Dabito Cazzo Io l'ho esploso Malissimo Io fra Ho sorpassato io lo commenterei in un fantasma Oh Eh No abbiamo ancora Questa gara è la pronta impassabile La T20 fa cagare Oh infatti sono il primo La prota è fighissima Guarda che Eh infatti la prota è fighissima Io l'ho esploso con quella Sì ma non me l'aspettavo in 10 a 0 in Kuvalta Madonna Kuvalta Ah pregovi le Sì Dove accettare il buco Ma come mai Luca l'ha fatto al primo trattativo? Di solito non è proprio accettare il buco Luca come ci hai fatto? Luca Kaito? No Tu tu Io? Ma se io fino adesso gli effettati Ma Sì Oh c'è entrato pure io Ok ci sono i diritti qua Dove sono io Se ne ha colpito uno era mentato E uccidete anche l'altro Ho preso un birillo a colpa di Striccio a franco Dio Ma ho un campo minato Io non ho colpito neanche uno La foto è bella Ragazzi mi devo mettere in carica il joystick Mannaggia ti Ma che mh Non c'è ma con la stampo Sì Conte che c'è una Un tubo a diritto Che questo diritto Più o meno Vai Io non li vede da tanto i tipi di Io non li vede sempre storti Oh Oddio Ma questo salto no ragazzo Esplodo e vabbè Oltre il passato la c Oltre il passato la pista Come cazzo è possibile Io Io ora esplodì questo Salto qui All'anno che ho fatto io adesso Fidati Dio ma da dove Dove andare? Giù la strada Oh Sono già arrivato 3 quadri Forse Se non esplodo Ma perché abbiamo già fatto Già tre giri No Era un giro Io ho vinto Io ora vedo che la salvi Sto live No Dai Per una volta che c'è luco Anche altra volta c'è luco No merda A pallare E vabbè Però c'è Un'altra cosa Però l'hai salvata Quello Madonna Io l'esplodo Io l'esplodo Io l'esplodo Non è esplodo Ma Non è esplodo Anche l'esplodo Anche l'esplodo eh Ma finisce la gara che bello Adesso che fa Terzo Stai arrivato secondo se non avessi sbagliato Se non avessi sbagliato E non sarei esploso Stai arrivato primo se non fossi esploso La prossima volta prendete la t20 Ma sta zitto bodymail Non prendo niente Luca hai messo di un microfono sotto la scella Sì No Stai taggando la scella In sera non sentivo niente Vedi che si giro e mi fa Ah scusa ho pensato di che ho fosuto la scella Sì Faci sbaglio a voi il filo che Cioè Mi sono qualità donato ma Gaido vota mi piace o non mi piace? Ehm Non voto Quella col virillo No raga La In alto a destra No in alto a sinistra Come disliked la mia Ma mostri cazzo Perché non mi ha fatto mettere Vabbè Raga Sarà tutto indeciso perché A me non mi ha fatto mettere Il commento per la mappa A me ha messo disliked E perché Mi ha fatto mettere disliked Perché nella vita Ne hai ricevuto i toni Madonna sto maledetto io Io non Non gli Vabbè tu non è che Non hai manco 100 followers su Instagram Che cazzo sento scusami Cioè sto qui non gli sto dicendo niente Questo deve darmi fastidio Però guarda che no 100 followers su Instagram Ciao a tutti Allora non ho detto proprio Luca 290 follower Allora di vittura Io ero più di 500 Già sbatti la cosa Eh io ti ando a via 1,800 No stavolta prendiamo la stessa Lei è duro La Sanchez La Sanchez La Sanchez La Sanchez Libera Libera La Sanchez La Sanchez normale No libera libera dai E' più figa da vedere Oh Oh Spendiamo la Sanchez si rivela quindi Si Come sei su cinque? Che vuol dire sei su cinque? Due su cinque? 12 su uno Ah E' il numero delle case Perse Luca la 15 12 Si ma il personaggio di stessa Raga però abbiamo tutti la stessa macchina vero? C'è la macchina Ultimo Si No io non c'era diversa Ho il colore diverso Ma cosa cazzo fa Luca? Partire sempre il primo Infatti Mi sono divattati sopra La testa Ma voi mi volete C'è Raga mi strotta Chissine Eh vabbè l'altro muore Voi ridette Voi ridette Ma io mi circostavo Non sono molto Ho preso C'è la mia vabbè non mi sto incassato e non c'è spuglio guarda luca invece è sbannato mentre è in aria vabbè è un testo in modo ah è il guide con la sci Luca se deve sbattere stavo per prendere un altro palo mi prendo già tutti Luca se cadevi raga tanto chi va piano bastone va lontano oddio che schifo eh infatti tu non hai vinto neanche una volta a non mi piano infatti dietro di me no che cazzo è questo sub-wyserge? non ho capito e che è sub-wyserge? ma come? non sa cos'è ma sei se ma i pericolo sei se fra quello la che scappò dal poliziotto ah subete sub-wyserge? 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 perché i migliori vogliono. vintono sempre mi un altro vuole in basso che in alto vorranno schiaffi Biuuuuuu come è subito? io l'ho visto la scena io ci ho superati no è stata bellissima io l'ho superati solo perché noi sono andati a sbandare ma tanto è la scena di Luca quindi è la scena di Luzzo io ero nella scena di Luzzo ma cosa? Luca è colpa tua mi è venuto addosso lui mi è venuto addosso io che mi ha buttato in arpa io c'è quello lì mia mamma oddio ho visto il mio editore che mi voleva dare la mano oddio no è niente nell'albero e va bene è nulla è nulla partì 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 io con le voti sono bravo infatti sono primo ma cosa vuol dire? che prima nella vita vuol dire che è bravo il secondo posto è il primo posto dei perdenti ah in intanto tu sei terzo ma almeno non sono nel primo posto dei perdenti infatti sei al primo posto degli sfigati ah brucia questa è dissing questa è dissing pesante no non brucia no Luca ogni volta che riesce a colpirmi con l'assalto con la sua mina assistita sul forte non mi ha assistito è una buona mira infatti infatti mi inti sempre anche Yolo fa così io c'ho veramente la mira buona perchè Yolo non è una buona mira ma vecchio zitto allora leva le opzioni avanzate visto che hai una buona mira no Luca no Luca questo bello che mi ingroppava da dietro se abbiamo messo qua ingroppa la gente non è vero no 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 a casa come a casa? che a casa? come ti puoi mettere a casa? a casa? a casa a casa a casa mi sfida l'ultimo sangue si a me Yolo si devo vincere almeno una fai visto bene e almeno uno almeno una almeno una si no 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 si vabbè affanculo vabbè! affanculo o di ah no Luca no buttiamo un fuori i 2 alla sessione giacamo solo ai due guide no io lo butto poi dalla sessima no ma che ho fatto ma sei maledetto ma solo perché pepi allora online... no aspetta amici amici guide no scherzo ci ho fatto il cristo se quando è arrivato io adesso tolgo la scia e adesso la tolgo 2580 dollari chissè mi fa la sicurazione io ho 4500 io mi fa la sicurazione nooo non puoi capire Luca cos'è successo cioè io lo tagliandava più di non so che stavo ridendo che lo tagliandava non mi piace a me se non mi piace miglio il giro addirittura Luca ti muovi raga quella è la make event punto va bene va bene make event ma quella è la mia vediamo qui non ci so spero la mia no no perché non vogliono vergognarti dei giocatori Luca ti ricorda che posso buttarti fuori anche dalla gara è arrivare il primo posso farlo con tutti non me lo giri uno basta mi sono dato i coglioni facciamo uno e bravo a farne uno così qui la zero direttamente ma va benissimo basta mi c'è i soldi e se dura poco cazzi suoi vedi due anni più sì i soldi i soldi i soldi i soldi i soldi dai prendiamo il nero tutti e tre dai io lo prendi il nero non è fare il razzista ma se la nera la metto bianco io l'ho ho visto quel brutto segno che hai fatto basta io avete preso tutti la nera? no io ho preso la bianco ciao Andrea non mi dallo che sei disegnato non hai preso la io non ho io si un giro ma che schifo dai no Guido veramente si perchè non hai preso la nero è la nero e tutto che hai sbagliato tu fai il mio vigile d'amico e questo è perchè mi hai sbagliato fuori pezzo e adesso sbagliato io sto scherzando e poi mi dice che io lo odio come no? ma Luca quella era è la nero ma con lo spoiler c'è anch'io non anch'io solo che in alcuni c'è lo spoiler non so perchè è una nero c'è solo un cosa dietro una cosa avanti non c'è anche me nulla ti chiamo spoiler ah coltivo io lo fai il pazzo là ho visto uno cadermi in bocca no no sto caldo che benedetto non so che ho capito niente di quello che ho fatto ma va bene ma sicuro quante pippe si sono fatti per fare sta gara ma è una cagata ce ne sono di migliore ma è sto secondo eh hai messo un zir forza iolo tutti ti fanno per me intanto la chat la chat diceva cantauto blu eh 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 ma che cazzo dov'essere una cazzo più finita eh meno male che ha messo un giro io smando da solo eh ha vinto Luca dopo questa rampa c'è la fine mi sembra ah boh io sono arrivato ultimo per una gara e la seconda gara non c'ho più niente ma dimmi che supergrado così o no? eh ma sognatelo mi superai nei miei sogni ma sognatelo intanto sei arrivato neanche una volta no anch'io eh mi superai nei miei sogni neanche una volta arrivato prima no quella che avevi con le moto sette minuti di vantaggio ci aveva no peronna si infatti è arrivato terzo poi infatti no 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 ma no mi si ribaltato ma cosa? no Gaido ha ragione Gaido ha ragione fra no questo qua non si ribaltato sto qua sto feliputando prima non si ribaltato no Luca Luca ribaltiamolo chi? a te? a Gaido? si perché scusami a Gaido ho detto a testa di chi? ho detto a te no aiutami no aiutami ma boh ti ho lasciato il mio posto cosa ero Luca era mio in verità però ok ok ma io te l'ho ribaltato questo boh io prendo la radio mi stai chiamando mia madre? allora per fin via ok quanto nome ti ti piace? io ero che ti stai chiamando mia madre spiego alcuna che mi ha senso di fianco perché ti chiama? non so non c'è nessuna vita come cosa è il nostro cotto fuori pesta non ci credo rispondila almeno e adesso vado a vedere che cazzo vuoi va bene fai la fk un secondo è una sfidata a me ah cheat i campioni vincono sempre infatti questa è la prima che vinci ma come faccio a vedere te? io ho finito io lo è fermo non finisce manco la gara la terza gara che non finisce come il terzo posto per colpa di sua madre il terzo posto è della terza gara che non vince infatti che non finisce che non vince ultimamente la bellezza di 200 punti esperienza io 100 ma sono una tango 41 seguito medio mi è piaciuta questa, mi è piaciuta, mi è piaciuta io domani non vado più in piscina vaffanculo perché? mi sono letto il cazzo minca ogni 2 minuti mi chiama ma che cazzo vuoi? chiama? ma vaffanculo no stacolta facevo queste no dai raga io non ho votato che ho votato quella in mezzo in basso io vedete quella qui con il berillo no ma vaffanculo ma vaffanculo vaffanculo ma vaffanculo ma potete mettersi a piangere in serio mi chiamo gaido infatti io non mi chiamo gaido mi chiamo luca appunto mica mi chiamo il signor gaido vedete questo è stacco veramente perché è un po' togno vediamo la la fmj si la fmj si si dai yolo yolo prendi la fmj yolo ce la faccio un po' rovinata chi è che ti ha preso a pugni? ah già c'è un incidente che hai preso non ho preso non ho preso la fmj quale hai preso? io ho preso la Proto ma cazzo l'auto peggiore vabbè dai magari ho preso la moto un'auto più veloce madonna io l'ho preso l'auto peggiore l'hai preso 80 Proto che è schifo niente gente mi stanno sti figli di Troy ma non è male st'auto raga domanda l'ha Proto quanto costa? l'ha Proto? il 70 Proto? nooo mi sembra sui 2 milioni sembra Luca mi posso sbattere da solo no in realtà mi sono contentato di vedere tutte le richieste che quali richieste? che mi sono arrivati su instagram oh mamma mia sì le richieste le richieste dei soliti indiani che ti chiedono vuoi acquistare questo vuoi acquistare quello io sono attaccato a iuolo io sono attaccato a iuolo l'hai sotto un po' di vista fmj nooo non l'ho fatto un salto non l'ho fatto un salto non l'ho fatto un salto l'ha cavolato cosa hai fatto? ho messo l'ucavolare tra dai tu ero qui o no? sì io sì è stato bellissimo come lo tratti è primo? ah ero primo ma non c'è te che ti sto seguendo io mi sa che prendi un muro se no ma ha sbandato la proto si vuoto vuoto ma che cazzo vuoi? ma che vuoi che è passato 100 dollari su luca oh ma che carino no in realtà non ho puttato un cazzo perchè tanto non vinci ma se sei povero ecco perchè non hai puntato niente intanto chi è che ha 200 200 mila dollari intanto chi è che ha un milione e 500 mila dollari ah mi vero ma che io non ce l'ho appare come te il quiche eh? questo ho shoppato pure su Rainbow Six Stage che è capito no io non ho shoppato Rainbow Six Stage fra io ho preso il premium e basta ma non ho shoppato Rainbow ma scusa ma i premium dallo store ho preso un codice? no 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 c'è proprio c'è l'offerta che pagavi 16 euro e 90 col premium guarda me lo installo io questo non lo capisco come livello ve lo dico sinceramente ma cag'è? io me lo installo no sto scherzando ma mi piace lei mo come gioco mo con me e cosi? è copiato la cosa ragazzi oggi mi fa ah ma no 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 oddio luca oh iolo quello che eri mamma mia se ti venimo addosso in quel preciso istante perchè ti ho vistuto veramente a me com'è te sei già così? vicino? eh fra ericcia due secondi fa come dicevo la calazia oggi mi fa ah uno più come te come me non si merita uno scarso come te io faccio è come se ti dicessi la stessa cosa su GTA o su Fortnite o su Fortnite infatti o su COD infatti ancora non io lo mi insegno a giocare a Broalla mhm lo insegno io ma stai ma se ti ho battuto anche se non sapevo giocarci c'ho ancora le clip e niente che mi dici cosa dici tu mi hai battuto perchè anche io ero la prima army era la prima volta che ci ho provato io gioco i torni ai competitivi in Broalla ma cosa dici la prima volta? ci giocavi con BigFrey e SpadaFu ok ok era la seconda volta e allora con BigFrey e Spada ho fatto solo una partita si mi sono per cazzo di sbandare con la provata però eh te l'ho detto è venuto penoso l'apporto eh 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 e conclude ah assolutamente mi sa che non facciamo concludere a Gaido Luca Luca solta Gaido non conclude solta Gaido non conclude solta Gaido non conclude non ha preso il checkpoint si Gaido su ai 21 secondi tu arrivi dove sono i battini non ci arriverà mai ah sbaglio o Luca l'auto più veloce della tua non so è della tua Proto no più veloce della Proto non è però più veloce della Proto si lo so che ti è successo? hai preso hai preso l'edificio fratelli non è arrivato ma bello comment io dis io sono dato distante 4 minuti e 32 da Luca perché non so come mai mi ha guadagnato 200 punti esperienza io ho 100 no grazie ma perché io sono rango 41 ci credo che non guadagno niente a me non mi piace questa metto mi piace adesso prendiamo questa però questo 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 quale basta sinistra no ma io non voglio la mini l'auto più schifosa al mondo anche nella vita reale no a me la vita reale piace invece la mini ma no ma è la mini con le ruote giganti ancora peggio anche stifo di radio e Luca dopo quell'anno non volevi andare zitto no non sto zitto e avrei vita lunga si vabbè me l'hai giusto anche ieri raga ma non è la mini è la brindioso è la una merda è la brindisi e la che le sai scusa? io metto sta io metto sto colore guarda che modificato è bello sta auto 9 su 10 7 su 10 6 su 1 Luca ce l'ha fatta io ho putzato mille dollari su Luca e il personaggio di Luca ce l'ha fatta da ubriaco Luca quale? Gaido Luca ma sei tu quello con i capelli rossi vero aspetta no perchè il personaggio di Luca Gaido ce l'ha fatta da ubriaco c'è scusa c'ho l'automed da 3 ore sei tu quello con i capelli rossi capisci 1000 partire Luca ha tenuto per primo tiro Sugar Luca ha tenuto per primo tiro No! L'ha detto io! Stavo cadendo! Che ti ha detto? Stavo cadendo! Stavo cadendo che non so che! Comunque io non ho premuto triangolo. E cosa hai fatto? Non ho premuto marcia. Hai detto io non ho premuto neanche premuto marcia. Hai detto due secondi fa. C'ha puntato 1000 dollari su di me proprio dove sto arrivando secondo. Non perde 1000 dollari tanto. Sì infatti se vinco io non li perdo fra. Eh lo so. Ma se vinco io sì. Se vinco io li guadagno. Guadagno la puntata. Guadagno 2000 dollari in più. Perché ho puntato su di te. I miei 100 dollari più alti 10.100. Se una stasera non mi ha dato veramente perdono. Ma la mia mini si sta ribaltando raga. Ok sono primo. E' secondo. E' terzo. Come sempre. Ma mi interessa che vinci l'uzio. Ho vinto io vincito. No! Che è successo? Qua vinco io vincito l'uzio. Non mi interessa. Ha detto me interessa che vincito l'uzio. Fino a questo momento. Ma stamini è indistitibile. Ho sbattuto 10.000 volte. Funziona ancora il faro. Ma perché stamini è ai fari. Raga ma sbanda più delle macchinine questa. Avventato le mie commenti. No. Chi è il secondo? Ciao Ryan. Ciao. Grazie. Challenge. Ah è arrivato Dayan finalmente. Ma l'uomo è da 30 anni. Si. Era impegnato con Alice in Waterland. Dai ho nominato. Alice in Waterland ho detto. Non ho capito io ma. No. Non si è capace di caricare quelle minime. Lo voglio bene. Ah Ryan. Mica che scelta non miglio. Ma in verità sono disattivate di... Di chi è il secondo Luca? Un minuto. E si sai che mi ha fatto sbandare sto stronzo. No. Dio. Una persona normale qualche vera sotto la testa. Luca son dietro di te intanto. Che cazzo parli? Ho proprio sbandato. Ah Luca Gaido. Io no di certo. Anche ho sbandato malissimo qua. No. Ho peccato il palo. Quanto mesi si piace. Ho peccato il palo no. Sono cadute. Vuol che faccia Luca. Vuol che ripari quelle raga. Quello è Dayan. Nel'altro fa questo gesto. Oh vedo Luzio su radar. Oh io vedo te invece. Gaido. 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 Ma ci credo che li veri. Sei ancora dall'altra parte. E ho sbandato. Intanto non sono io l'ultimo. A me interessa che vinco io o Luzio? Sto vincendo io. Ma scusa perché ti interessa se vinco io se prendi 1000 dollari? Non è che li perdo fra se li punto su di te. Significa che li vinci. Allora prima hai detto che se puntavi 1000 dollari e tu vincevi 1000 dollari suoi andavano a te. Ora stai dicendo il contrario che capo decidi tu. No fra se io punto su di lui e non su di me significa che soldi li guadagno se lui vince. Allora Luca vieni qua. Vieni qui. Vieni qui Luca. Cosa? Supera Luca. Supera Luca. Vai Luca Luca. Superami. Superami. Sta arrivando. Sta arrivando. Vai Luca superami. Luca non devi farlo passare. Sta arrivando Kiss. Bloccalo. Come lo blocco? Ho una Mimì. Non è che ce l'ho giocato. Mettiti davanti. Ma vatto caro però io voglio arrivare primo. Bravo Luca. 2000 dollari. Sè. Andiamo. Andiamo a Berlino per. E fra mi dà il doppio se vinco. Mi dà il doppio se vinco. No fra. Mi dà il doppio se vinco. I miei 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 miei. No fra. Se io perdo perdemi 1000 dollari ok? Se Luca vince che ho puntato su di lui mi dà i dollari che... Guarda guarda guarda. Sì. A me 6.220. A me 10.000. E si vola. 2000 dollari in più. Aumento di rango per la scompensa. E si vola. E si grande Luca. Grande Luca. Madonna. Ma manco arrivasse prima una gara. Oh. Magari arrivato a seconda. Ti è cito per arrivare a seconda. Per guardare ci arriva prima. Oh. Ho preso la scommessa che ho puntato su di Luca. Non mi romperi. Ma stai zitto stai. Mi piace. Vai ultima gara. Ah. Questa. 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 Rifatale tette. E ora. Se no. Ora. Ma ci vorremmo un po' a rifartelo ancora. Mi hai scelto Luca. Io lo sarei rifatte. Una. Una dovremmo abbassarci praticamente. Ryan Pelatti e Rod Online. Secondo me entra nel patti. Ryan entra nel patti secondo me. No ma non voglio la radio. La levi in macchina. E prendiamola. La due Hockey Town. La duke Odette. No. Io prendo la Peach World Dominator. Fresh. Luca. Il tuo personaggio. C'ho la faccia da drogato. Ubiaco. Un po' L'ho messa in controllo. Lo mettere se che dole. No. Mi sono back man. E' ho fatto il testo. L'ho messo in controllo. Oh regalo mi ha messo la macchina che volevo. No 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 regalo. No no vale regalo. Questa è la mia che è volide. Chi è il primo a partire? Io Ma la sua è corazzata e basta Infatti Ma se è corazzata va più lento se non sbaglio Infatti Infatti ho appena scattato Sono terzo per una volta Tre volte non per me Oh Luzzo Luzzo Non sta molto ma più veloce adesso No Luca è il suo figlio di troppo Che cazzo vuoi? Il suo figlio di quella scena Il suo figlio di quella scena Ma non ho visto la scena Io non so che dopo questa stacco Oppure mi hai fatto un po' una No no io pure davvero Voglio rivederla Voglio rivederle le scene in cui Luca Gaido cadeva Oddio ma com'è che sei arrivato così dietro di me? Ma è chiaro Io sono ultimo come sempre Buongiorno Ma facciamo di care che hai fatto Che voglio arrivi Che vedi Cosa è il nostro figlio? Noo Noo Ma sono scemo io Noo 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 Ha fatto il tuo figlio di chi? sono appena guidato anch'io ecco guidato si cazzo un secondo terzo oddio ah ho ripreso il mio posto ma basta cadere nooo perché puttana sono la mia auto un pezzo di carta la mia auto se li prendi al burro ma luca tu hai così un'auto blindata a costa velocità da zero eh mi ha superato per farti cambiare con la sola città a zero ah quella è blindata sai che quell'auto modificata al massimo dopo neanche 12 da anzi esplode sì vabbè ma che bravo pilla che sono ho preso i checkpoint ma non me l'ho preso perché sei un po' vaca quanti giri hai messo in questa YOLO eh? quanti giri hai messo? tre ma io non ci sto capendo niente io voglio incontrarvi ma io ho preso la vostra io ho preso la vostra adesso madonna prima la scena in cui Dico ha fatto cadere YOLO su inca per cui lo sono terzo sto figlio di trovo chi è che ho visto mi sento? ma non crede che mi ha fatto cadere e lui è andato no 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 che altro anche tu però Luca i veicoli blindati sono sempre quelli più lenti lui cosa fa per dei veicoli più blindati o del gioco no 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 merda eh che quello ericolo dopo due dici tanti esplode neanche eh vedi però è blindato mi sa che lo fanno che lo modifichi al massimo è blindatissimo fisch che posizione sai non mi ricordo spesso terzo no sono saluto no sono saluto ma vai è sempre nella sua posizione cioè terzo ma fanno qua adesso vado in giro per la mappa mi sono rotto i coglioni come in più che la mappa si si sono sceso giù ma sei in serio? si dove sei? ma sei saluto infatti come ti saluto? eh non ci ho rigenerato ah non hai detto che andavi in giro per la mappa eh si ma il bambino non conosce la strada si perde lo cazzo più grande di te che cazzo vuoi? ha bisogno della sua mappa ma che è fatta di cioccolato quindi se le mangiate non si sa orientare tu hai bisogno del bastone ma in doppio senso sia il suo tempo in mutande sia per orientarti te stai di calma almeno io non sono... non lo dico brah guarda che sono più alto di te sono anche abbastanza dimagrito che dio all'urso non ti faccio perdere la dignità ma stai ziz ma il problema è che non l'ha mai avuta la dignità appunto non puoi farmi perdere ciò che non l'ha cosa mi stai dicendo? tu sei più magro di me questo è da rivedere e sono anche più alto di te non ho detto mai di essere più magro di te occhio però sono più alto di te sei più basso fra sei più basso sei più basso di raya ma che cazzo vuoi fare? sei diventato Nicola 2.0 e l'alterei detto prima tu sei più magro di me madonna Nicolè Nicolè è talmente basso che se lo vede Gini Garganella si metta a correre dietro di lui io mi ricordo a Nicola che giocava di toccare con la Ginevra ragazzi ricordi Nicola davanti all'ora di Yassi ci prova con Ginevra ma tipo là no frati ricordi forse tu non c'eri già ma la battuta con passaggio quando Yassi riscrivava Nicola Yassi riscrivava Nicola dicendo eh ma tu non ti vorrei sposare forse di mare bocciato eccetera Yassi ha detto quando tu non ti vorrei sposare Yassi ha detto Ginevra no guarda 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 ah no si fra c'ero c'ero non ho capito che ha detto la passaggio guarda guarda che tu non vorrei rimanere bocciato ti vorresti anche sposare tipo se non mi ricordo male e poi il piano ha detto Ginevra è imbarazzo poveraccia si madonna c'era oh fra ti ricordi mi ha spiegato che la frisina è stata l'unica che è riuscita a far zittire Nicola per una volta no no la frisina io la frisina non la conosco ma da ciò che mi ha distritto sicuramente una dei peggiori prof che hanno mai avuto loro è un supplente ma adesso hai sentito che è andato a studia in Inghilterra per imparare l'inglese chi è andato a studia in Inghilterra? grazie di matematica comunque non è vero Montagona sta dicendo una grossa cazzata è una delle sue peggiori gli unici che sono stati a zittire Nicola sono stati cura di educazione fisica orlandi passaggio e io quando lo prendevo a schiaffi passaggio e gli spaldi Nicola una volta si è presa con me lo stavo in sequento ho fatto così col piede ha iniziato a correre scivolato davanti ascoltami è scivolato no fra l'anno scorso infatti ho fatto tipo il gesto da paura a Nicola non è presente quando sbatti i piedi per terra Nicola si è andato a correre è scivolato è scivolato i piedi della come si chiama quella di inglese la maroglio la maroglio la maroglia l'ha guardata mi ha detto Nicola ma è tutto posto Nicola si si però questo quest'anno quando tu non c'eri Nicola si è presa con Montalbano Montalbano sai che non è uno che corre è un po' grassotto no Montalbano prima coveva in una maniera ha una corsa lenta no vedi Nicola al fondo vicino alla formata di soldi che prendevamo fronti e c'era Montalbano inizia la sedata per Montalbano a correre è peggio di Flash che le compra a Nicola no ma va è arrivato poi un vicado rosso della terza D che anche lui è un po' cicciottello eccetera che ha fatto la corsa dei 100 metri neanche coseva velozissimo lo ha preso non stava lo ha preso ho la Banshee la mia Banshee anche la mia ma la mia ah ma le nostre auto sono che figo io prendo la mia Kuduma io prendo il mio spettro dai per una volta possiamo gareggiare Kuduma mia bella ho il mio piccolo spettro io prendo la spettra come la spettra tutte e due sì ma quello verde è custom quello verde è dentro oh verde che cazzo è questo io ho con con del verde dentro l'auto madonna ma lo prendo questo momento ce la faccio da ubico chi è che ha l'auto verde fuori io perché non mi sa più sbaglio oh verde no io ho preso la mia Kuduma ma non è che ci perdo oh forse di noi oh aspetta ma Luca è più veloce di noi aspetta what infatti e sto andando pure fuori strada no no infatti cazzo ho penato ho penato l'ultimo io quello fa di vada via ho penato l'ultimo io no no io ho paura di Luca e in realtà sono Yolo ok hai visto stavolta c'hai colori verdi sto scema non rispetta neanche la sua gang ma io non c'è una gang Fran non c'è la viola se l'avrei messa sei un bel gognoso Fran c'è la viola se l'avrei messa oddio e perché Luca c'hai nero scusa però come sono atterrato io boh io bene tu male io lo esplode ciao ragazzi meglio per subito basta basta Luca mi ha rotto Luca mi ha rotto nessuno si permette a rovinare la mia colonna adesso vieni ti do una io lo ho sbandato in una maniera ma non me ne prega niente io voglio te no grazie che dichiarazione d'amore profondata ma che slip non in quel senso Luca Luca Luzzo ha fatto una dichiarazione d'amore profondissima no comunque mi sta prendendo un occhio da sbandare adesso adesso sto no adesso Luca che posizione sei per fondo o primo nel secondo Yolo che posizione sei vediamo ok bene bene davanti a me allora bene bene adesso ma anche Yolo ha sto punto davanti a te perché ma io non me ne frede niente io ho il punto su di te mica su di Yolo bravo Luzzo fa vincere Yolo l'ultima gara della live no perché sto qui mi ha fatto mi ha fatto mi ha fatto sbandare ecco perché e anche io ho provato a farlo sbandare ma sono arrivato a seconda ecco ah no ma è Yolo questo eh si per la scia per aggiungerlo per la scia per aggiungerlo Yolo eh volevi farmi sbandare però questo non me ne frega niente non me ne frega niente Yolo se mi vuoi fare bene Yolo ti ricordi quanti giri hai messo no oh Yolo non voglio te Yolo vieni qui Luca sapete di te ma io non ho paura di una mezza sega ah e e la cosa bella è che all'inizio della gara dice io ho paura di Luca io ho paura di Luca e c'è la live perciò non mentira ma chiedete il contrario ma poi scusa mezza sega le hai terse tutte tu scusa qui c'è mezza sega manca una in cui si è arrivato manca una in cui si è arrivato prima solo secondi no una vittoria l'ho fatta e poi tutte le altre secondi quasi una tre la grande domanda solo ho visto Luca laggare anch'io anch'io mi sto trattando Luca e Yolo vai 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 Yolo cosa stai facendo? ma allora sono scemo e Luca ha provato a farmi spandare ti hai spandato Eder e hai finito sott'acqua no tommo ma allora sono scemo in culo vabbò stavolta sono stato stupido l'ammettere che si va come se faccio come te su fortnite quando devi tagliar dare faccio come guide su fortnite brucia brucia con la mira assistita adesso adesso vi dico io non ho la mira assistita solo una buona mira con l'assalto non c'ha sta buona mira Yolo ce l'hai tu Fran ogni volta che ci camminiamo mi dici che è una buona mira però con Yolo dici che è una mira assistita eh Yolo cioè Luca esiste la differenza tra ironia e scherzare no in verità è la stessa cosa però ok ma in realtà quando dico che c'è una buona mira lo dico sempre con l'ironia cosa conosce la differenza oddio ma cos'è la non ho voglia visuale stante ti ha attivato quindi tu puoi attivare lo sei tu a me l'ha attivato da solo si raga un po' più secondo a primo ok non male si ma raga Luca lagga cioè io lo vedo scattare una mira incredibile mannaggia eh vabbè ha vinto eh vabbè dai questo è tipo la terza gara in cui arrivo terzo questa è la terza gara in cui concludo no la terza gara in cui arrivo stupendo ma do ah brucia eh cosa brucia esattamente e qua c'hai pure il pilota automatico se non è una mira assistita io su forza ne c'ho una mira ma non ce l'hai io una mira così ce l'hai tu lo dice anche Airbuff lo dice che è una buona mira Luca Luca se vuoi ti vado in profilo Instagram di Baffo dibi cosa le pensi e non ha la mira assistita lineare tranquillo non ce l'ha non ha la mira assistita lineare tranquillo comunque Luca comunque Luzzo pensiamo alle stesse gare cioè io faccio non la mira assistita e questo posso saperlo solo io che non la mira assistita cioè Cristiano io saperlo perché voi non siete nel mio account e voi non siete nel mio posto cioè diceva la stessa cosa quando un giorno gli ho detto un giorno gli faccio ti ho visto online una notte alle 4 questo mi fa non è vero come ti permette di dire così non so a casa mia non so io come ti permetti non l'ho mai detto invece sì che l'hai detto l'ho mai detto non è vero non è vero ma in realtà una volta ti ho visto che giocavi a Codemo non iniziamo come tutti i vecchi ma è stato io sapevo cosa sono cioè io sono tutta la cosa sono le tue gemelle le tue gemelle di PS ah non sapeva che erano cos'erano le tue gemelle era le tue gemelle se non sbaglio sono un famoso aeroporto ma chi ma chi chi l'ha detto boh non hai ma adesso raga prendiamo la osis sì sicuro no perché poi Luca dice no non abiti a casa mia non puoi saperlo lo dai gli account no invece è un po' di aeroporto fra insomma era un troll era un tipo fa tipo come cacchio si chiamava vabbè sapevo che ci sono un troll di gemelle fa tipo no 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 so perché sono dei ballastronze è stato Gaido è stato Gaido che cacchio è muore è stato uno dei due Luca poi perché arrivo mi lamentò perché arrivo terzo minchia all'inizio 18 e cristo no comunque è stato vincente Luca è stato il tuo posto è caduto in acqua è stato bellissimo l'hai visto Luca? si è YOLO la osinitz è bella come auto casino ce l'ho anche su TTIO no no io dopo questo stacco seriamente come prima raga dopo questo stacco seriamente cheat anche tu hai detto così non so se anche io ho detto così io non riesco a leggere bene i commenti vi dirò io dopo la like comunque GPS non è che non so che sono le tue gemelle era un troll era un famoso aeroporto perché ci si è andato a schiantare un aereo era quello il troll sai cos'è un meme ma chi è esattamente che sta facendo lo stupido che non ha studiato no ma tutti lo sanno che le tue gemelle erano un famoso aeroporto no? cioè infatti infatti proprio c'è lo sato Luca lo sa pure Luca Gaido voleva dire no Stefanovic Stefanovic chi è scusa? Stefanovic infatti io mi sembra così occhio a non prendere l'acqua si rallenta un casino e stavolta gli ho dato un consiglio a Luca perché prima non sapeva neanche come si fu andava a motocyclare eh Luca sono io il secondo hai dato a me il consiglio non a Luzzo cioè no Luca a Luca ma anche Luca Gaido in realtà sempre se sa cos'è sempre se sa cos'è l'acqua non è un bambino africano lui l'acqua la beve oh donna Luca ma là in collina dove eravi ti dice l'acqua si ed è anche buonissima è anche fresca se devo essere sincero quale è quella dove si lavano gli aprimani? guarda che sono stato quella sua tipo sono stato quella sua da l'una del pomeriggio fino alle 10 di sera ti ricordi Luca? si si ma fa cosa? a giocare a stare insieme strano voi due vi siete sempre odiati ma non si scopre quello che uno ha toccato per l'altro quello che uno ha toccato non c'è se vogliamo in prima media sì mi figliate solo per il culo di tutto il tempo adattora come Montalbano e Nicola vanno da amore d'accordo ma poi li devono sempre io non vado mai da amore d'accordo con Nicola no l'ho detto come Montalbano e Nicola che vanno da amore d'accordo ma li devono sempre da amore d'accordo ma che sono finanzati non ho capito sì più vero raga dopo leggo i commenti adesso non posso ma non sai neanche se c'è qualcuno in orale sì sto vedendo la notifica che mi arrivano i commenti testa Riccardo magari sei tu magari è tua madre che chat ma a parte che non ho accanto YouTube ma se avessi l'avrei già bannato ma come chat perché magari ha sbagliato dare la chat di Whatsapp Yolo ma tu puoi vedere i partecipanti che ci sono nelle live anche se non scrivono nella chat penso di sì no lo so non mi sono mai informato perché poi si sente Luca con la musica epica di GTA offline guarda Yolo come salta esplodi fra la mia bash non esplode mai non rompermi il cazzo perché ho visto Luca fermo davanti a me per un attimo frenato di colpo in una maniera ma se io sono ultimo ma io per sbaglio ti ho visto ti ho visto per la mia mappa Luca io e te siamo ultimi siamo ultimi con la vita con la vita amorosa io e Luca Dallido siamo ultimi nella vita amorosa io sono felice di essersi tu sei solo quella del terzo anno delle medie quale perché scusami potrei saperlo ah ma ma lui parla di se stesso gli ho dato consigli per provarci con chi ci doveva provare tu non sai che hai una vita amorosa prima della terza media Luca Luzio Luzio con chi ci doveva provare Luca tu non la sai infatti soltanto quel giorno ci stavi soltanto quel periodo ci stavi trovando ma con chi ti ripeto che tu non sai la mia vita amorosa prima della terza media Luzio mi dice perché non hai mai avuto una Luzio cagami tu non sai fuori della cuola sono avuto una madonna no io l'ho più e ti dico questa una di di secondare mi sembra o cioè non sono razzista adesso però non mi ricordo bene Sara cosa era no dire di carnagione cioè di carnagione di paese mi sembra marocchina se non sbaglio cioè non sono razzista in questo momento sto dicendo soprattutto perché magari la riconosci cioè te la ricordi perché secondo me l'hai riconosco scusa te la dovresti ricordare ecco era tipo ma di che classe nell'attuale terza e era tipo una un po' che tiro va poco 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 poi terza ella l'anno scorso faccio la seconda e quando c'eri fra fra ma stai parlando di isma un po' vabbè dimmi e vedi che scrive alla ragazza con cui ci trova Luca e gli fa mi potresti dare duomo di Luca mi piace tantissimo Luca in delirio solo perché mi fai fatto piacere da una ragazza cioè in delirio solo per quello io non so in delirio da te vuoi la ragazza manca mi piacerela manca mi interessa per lei manca la connessione ma cosa non so in delirio mi è scherzeggiato dicendo oh io questa cos'è chi è mo non la conosco non so neanche quattro anni a 2007 non so neanche quattro anni a vabbè c'è gente che si è messo qua il 2008 Luca non farei nomi Luca non farei nomi ma io non faccio mai nomi Luca Stenfernovici o Gaido ma va Luca Stenfernovici non ha mai avuto una relazione io conosco una persona che si è messo con il 2008 chi chi è anche una persona che si è messa con una 2007 è chi è chi è che c'è un certo Nicola Ardissone in terza media quando è arrivata Emma dice raga io mi sono messo con una 2007 che si chiama Emma va qua ma dai su Emma Emma che si caga a Nicola ma Nicola è basso quanto la mia scrivania la mia scrivania è alta un metro e cinquanta per non esagerare è più alto il mio gatto è più alto la mia scrivania vabbò cos'è un gatto fuori dal comune è un ognomo Nicola e poi vuoi fare la botte è già l'una di notte infatti no scherzi è stacco veramente dopo questa città di chi vorrete fare che è stato veramente dopo questa un giro io dopo di questa vado a vedermi un entai io dopo di questa vado a vedermi una serie tv no io mi sa che dopo di questa parlo con Aurora adesso prendiamola con qua l'Aurora mi doveva dire una cosa Bonardi ma scusa ah ti doveva dire una cosa si se c'è bisogno scrivi si grazie prendiamo la la Gagliol Gagliol fra 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 io gli attaccherei Aurora addosso a Luca a Gaido prendiamo la Gagliol 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 prendiamo la Gagliol ma vai fallo cacchio ma che va a prendere la Gagliol Luca mi sa che entro stanotta alle due ti incontri dai una che a cui piaci si ma non la piace cazzo io la odio cioè adesso non è non è provare odio però che ci stai giro fa un po' veramente rompire noi chi è ragazzi le tre gimelle ragazzi io l'ho sentito hai preso un'altra morte un'altra moto dai ma non ci credo io l'ho per un'altra moto ah però io sono più veloce io sono più veloce io sono più veloce come te visto dovevate pennella in caricole eh non ho scelto io fra mi ha scelto a casa perchè ne avevo messo pronte che lenti che lenti che lenti siamo dietro siamo dietro ehm si ho appena preso il muro ma quando qualcuno di voi ha preso il muro non lo so chi si si no no uno l'ho preso io l'ho visto io l'ho visto mi sa più mi sa che luca che ha laggato ma non l'ha preso il di prima mi sa che sta moto la comprò io ce l'ho già con la moto che ti fa la macchina di prima mi sa che sta macchina la compro la moto mi sa che sta moto la compro io la moto che di celuza ce l'ho eh la prossima cosa che ti comprerei cos'è il cazzo di fish madonna ma cosa non posso comprare una cosa non esistente no no me l'ha detto Ryan che non esiste me l'ha detto Ryan che non esiste raga ma perché non ci possono fare scontri? ehheh ah ancora no ha messo ha messo senza collisioni avrei fatto sbandare fish già decimila volte anch'io ah ma fa sbattere purtroppo oh il mio caos ma come è già finita che doveva arrivare prima ah no ma cos'è sta cosa cioè o vai da una parte o vai dall'altra ma qui c'è coin si che è qui ma non è già me gg per me eh gg per te e magari ha che vince ma davvero non vinte quattro wow hai arrivato tre ne ha vinte e quattro è arrivato secondo infatti meno 4-4 ne ha vinte raga quanti soldi avete vinto? eh 620 tipo quattro tipo io adesso vado a depositare vado a depositare i soldi anch'io esatto e gli applausi lui cazzo è talmente mongolo anche sul gioco vado a uscita vai rega io asco no no rega è uscito sono uscito Sì, 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 sì. Quanti soldi ho vinto? Ho vinto... eh, ovviamente appaio nelle zone della gang. 50.190 dollari. Quante? 50.190. Io? 53.253. Luca? Io 50.190. Perché io di più? E sono sempre arrivato secondo e terzo. Io ne ho... 48.000. Io di più di tutti sono arrivato sempre secondo e terzo, va bene. Ah, è vero che ho puntato e ho vinto il doppio di quello che avevo puntato su Luca prima? Ma c'è una gang qua, perché spunto dalle gang? Anch'io. Ma casinissimo, nel deserto. Posso chiamare la Mary Weather per un elicotro di rinforzo? Non lo so. Io la chiamo solo per vedere come fa. Ma ti mando un elicotro di supporto. Ma il elicotro di rinforzo è inutile, manco il supporto morale, dà. Ora che parliamo di moto e di auto, vado un attimo a vedere le auto. Ora camiglione. Se posso prendere qualcosa. Io c'ho 295.000. Posso chiamare Lester. Viaggio e trasporti. Chiamare Lester. Per azzerare il livello di sospetto. Oh. Adesso sì. Adesso sì che pagherai tu. E non io. Ma ragazzi voi ora che fate spegnete, giocate città, che fate. Eh io non sto vedendo un po' di auto da comprare la gara. Ragazzi mi sento la stiamo accompagnare finché non trovo delle auto belle. Ah io domandavo, ho detto poco. E ho capito, frate. Delle auto belle da comprare. Io mi ricordo che in una gara ne ho usato una figa. E me non mi ricordo dov'è. Non esiste. No, c'è, c'è. Sto scherzando. Ho un'era da grotti. Ce n'è un'altra. Più in giù. Ecco, era la... The Bouncy. La The Bouncy. Però... Costa esattamente quanto avevo il conto in banca. Quanto hai in banca? Un milione e 548.724. Sto cazzo. Compra la paperon de' paperoni. Ragazzi c'è un Nagasaki Shotaro. Io se mi shoppo un altro milione e me la compro. Domain non so se me la shoppo. Ma aspetta, ma aspetta inizio mese. E che c'è inizio mese? Perché così ricevi un altro milione. E' una che io vuoi comprammi un'elicottero. Cos'è un'area di fuoco? Vuoi comprammi quella 12 milioni? Io ho dell'auto che costa di più. Sul sito qua. 1.200 questa cagata. Raga ma c'è il carro funebre o l'avevo visto male? Non c'è il carro funebre. Ma quando è il carro funebre? Eh, sui cosi di Dio Santos. Lascio capire. Non la gallia voglia troppo due auto. Ma ne hai già due. Una è la Progen, l'altra è la Principe. Deve... Si è il principe di Belen. Principe di Belen. Belen. Vedanozza di lusso. Poi l'altra è la Pagassi, eccetera eccetera. L'altra è la Overfall, Lord, Tyrant, Litterrant, come cazzo si dice? Raga cos'è Pedam Seekers? Ma le... No, le bici va a fanculo. Poi vogliono la... E Doc? E Barbu, e Banger, Wagner, lì, come cazzo si dice. Raga, mi posso prendere l'attrezzatura balistica con 500.000? Eh, 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 eh. Lo sapete che mi sa che me la prendo? No, è bruttissimo, no, fidati. La... La volevo prendere anche io, ma è brutta. Solo per favore non so il potere, ma è che ti dici che è brutta. Ma guarda che è vero, è brutta. Ma il minical armato costa così tanto? Minchia, l'ho presso o è quella moto che vuole, giusto? Minchia, l'ho presso o è quella moto che vuole, giusto? L'ho presso, sì. Raga, che che mi presto un milione? No, non ce l'ho per me stesso. Minchia, 2.925.000, vacca boia. Raga, io mi sa che mi prendo la vedova, quella là che ha preso oggi, come si chiama lì? Cos'è questo, invece? Minchia, costa un così tanto. Eh. Vediamo con il macchino che non posso comprare. Raga, ma sbagliare a Western Rocket va a cagare il cat. Da quel che mi dicono. Poco. La Kuruma costa mezzo milione. Io voglio questa, Nagasaki Shotaro. Minchia, l'alto 95.000. L'auto di Franklin 96.000. Beh, sai che la ti dico? Mi compro la Kuruma. Di Michael 55.000. Ce la compro blu. Dov'è la Kuruma, raga? Eh, nell'ultima cosa, nel Southern. Quanto costa la Kuruma? 95.000 con la normale. Ah, va, fanculo. Ho acquistato l'auto di Franklin, io. Scusatemi, raga, la Kuruma dove sta? Cioè, in che cosa? Nell'ultimo in... Nel coso giallo. Ok. Allora, filtra la lista. Cosa devo mettere? Raga, c'è un camion che voglio solo per... Per una cosa. Solo per quello. La Kuruma in quale si dovrebbe trovare, raga? Spiegatemi. Nell'ultimo. Nelle, come si chiama? Sì, lo so nell'ultimo, Fra. Lo so, Fra, però... In che sezione? In fondo, dopo le moto. Dopo le moto. Circa. Raga, io ho comprato un camion non perché mi piaccia, ma solo perché dovevo farlo. Non ci sono... Non c'è nulla dopo le moto. Ah. Il quad di tre, guarda. Come si scrive Kuruma, raga? K-U. Ok. Ma io lo devi andare sotto. Sotto. Ma sotto dove? Sotto ancora, c'è ancora un po'. Non c'è, non ci sei più, guarda. Oquissimo dopo le Kuruma. Dove sono? Vini, lave, dimmelo. Qua è solo il moto. Non lo faccio, 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 non lo faccio. Non lo faccio, 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 non lo faccio. Ho preso l'auto di Franklin. Allora, non c'è. Quanto è che costa lozzo? Eh, 95 mila. La periodo. E possa essere un'ultima? E' forzo per la data? Ti Secchi. E'ц River. Give me who. ragazzo al burrito di angolo no no un punto ho comprato l'auto di franklin io ho comprato un camion che appare in un film che è in coro ma eccola qua ma non voglio fare il cazzo ma vado a una parte di un attimo per i ragazzi eri io vado un attimo ma perchè non ho detto che google ma cercato il cazzo so che google vabbè che figo l'auto di franklin ciò di rai families luca hai presente vabbè no tu non poter essere presente ma tu mi hai visto una serie che si chiama hey team io si la conosco su gta c'è il furgone delle team io l'ho preso solo per quello ma quale quello nero con la banda rossa mh è un bonita game quello fra ma va quello è dei lost ma assomigli un botto a quello che c'è nel film è dei lost e io l'ho preso solo perchè solo perchè è identico a quello che c'è nel film il domani facciamo un tag si no domani c'è un su ma domani sono in piscina dopo domani hai detto che non ci andavi boh non so non so che ci si può andare tra ragazzi domani luca la prossima settimana riusciamo di nuovo magari invitiamo un guide a michele anche più no non mi va la prossima ciao tizio vorrei acquistare un po' allora fammi vedere un po' le tue armi chiolo ehm tra sei mesi e qualche giorno esce la far kai sei la far kai sei non ho capito quale dire il gioco è una cosa più emozionante tra tre giorni no fra due giorni escono le auto su sportman non è un pia devastatrice l'ho presa va a fa un culo la faccio anche viola e mi prendo anche questo ok la posta è la nuova ho tutte le armi laser tutte la sanchezza guarda devo provarle un po' raga voi siete da me? no no peccato raga ma ci sono i colpi raga ma ci sono i colpi per la fabbrica vedova scusatemi mh? la fabbrica vedova ha colpi infiniti o devi comprarli? non lo so devi comprarli ma come devo comprarli? eh se la vi e queste invece? anche queste devo comprare le palle eh vabbè andammela comprare ho speso tutto solo per modificare l'auto di franklin io solo per le almerie ne fai un po' te c'è tizio no raga non ci sono poi ah si prego per ottimizzare al massimo al massimo ok e poi i miei soldi sono finiti almeno l'auto di franklin boh io vado seriamente ci vediamo domani ciao lozzo bello ciao luzzo ciao luczu ciao luca ciao luca ciao luca Grazie.